Monti, come si crea un business online partendo da zero e da soli? Questa è una domanda che mi è sempre stata fatta, non lo so perché mi fanno sempre tutte queste domande e negli ultimi anni, ogni due minuti, c'ho qualcuno che mi chiede questo, non c'è una lira, vorrei partire a fare qualche cosa usando internet, usando il cellulare, il coso, YouTube no, c'è tutte queste idee anche un po' confuse, però sono da solo o sono da sola e non ho una specifica preparazione non faccio l'imprenditore, non sono un esperto di economia, no, c'è uno parte da zero in una situazione normale e allora negli anni ho sempre cercato di dare i miei due satoshi su quello che è un po' questo mestiere io sono 20 anni che faccio questo mestiere, faccio progetti online, poi il progetto online può essere di tutto e di più un periodo magari ho fatto l'editore, per un altro periodo ti sposti nel mondo della formazione poi ti lanci nel magico mondo delle agenzie, poi fai l'app e vendi l'abbonamento all'app poi organizzi gli eventi online, fisici, quello che è e a questo punto tutto questo calderone di roba fa sì che dopo 20 anni sono ancora qua quindi in un qualche modo queste attività hanno funzionato e funzionano soprattutto per me per la qualità di vita che faccio, che personalmente trovo ottima that's it, queste sono le mie credenziali a questo punto capiamo subito che cosa ci sarà dentro a questa masterclass che durerà il tempo che ci vuole per parlare di questi argomenti e non a 15 secondi di shorts su tiktok e poi capiamo per chi è e per chi soprattutto non è questo approfondimento di cosa parleremo? della mentalità che devi avere nel momento in cui vuoi fare questo mestiere di come si fa avere un'idea per il tuo progetto o l'attività che vuoi fare online come si struttura quello che è il prodotto, quali sono i prodotti che puoi vendere quali sono i modelli di business che puoi utilizzare per vendere online tutta la parte di operations cosiddetta, parte finanziaria, la parte legale la parte delle persone se devi coinvolgere delle altre persone la parte di prodotto, proprio il prodotto quando lo devi mettere online che cosa fai, come lo metti in pista, come fai a vendere, incassare eccetera eccetera come fai a promuoverti e via così questi sono i concetti su cui vorrei girare per chi non è questo approfondimento però, è importante saperlo se sei qualcuno che vuole fare il prossimo unicorno la prossima azienda che vale un triliardo, fantastriliardo questo non è per te non ho mai fatto un'azienda che vale un miliardo good luck non è neanche per chi sta pensando di fare una startup in startup land maniera tipo 4books di turno per citare una startup mia di recente cioè startup che sono strutturate partendo dall'inizio con round investimento tu inizi, hai un deck di 12 slide dove dici andremo a conquistare il mondo faremo questo tipo di attività dateci soldi nel momento in cui ti danno i soldi tu parti inizi a fare entrare investitori nel capitale poi vari round investimento fino ad arrivare a un exit non è questo il video per te questo video è se sei solo, sola se non hai budget in sostanza non hai investitori non vuoi andare a cercarti investitori vuoi fare un'attività semplice che magari ti paga le bollette e che ti permette di fare una vita decorosa che ti piace nel momento in cui esci a realizzarlo poi se il progetto funziona non è detto che invece passi alla fase startupara e dici ok allora faccio entrare gli investitori inizio a crescere, scalare come si usa a dire il business bla 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 numero 1 partiamo dalla cabessa se vuoi fare un business online devi necessariamente switchare e cominciare a ragionare da imprenditore come ragiona un imprenditore? un imprenditore è una strana figura dal mio punto di vista sapendo che ci sono tante tipologie diverse di imprenditore dal più piccolo al più grande io sono tra i più piccoli però tutti hanno la stessa caratteristica da un lato hai necessariamente una vena di ottimismo perché pensi di riuscire a fare una cosa che gli altri dicono che tu non riuscirai mai a fare o sembra una cazzata cosmica e dall'altro lato hanno una vena di enorme pessimismo paranoico cioè continuamente c'è questa preoccupazione questa paranoia su tutto quello che può andar storto e tu tieni nella testa queste due sensazioni che non è il massimo della vita se ci pensi però questo è se vuoi fare un qualunque progetto online devi sapere che devi ragionare nel preditore e non è un hobby non è una cosa che puoi trattare così ma sì lo faccio nei ritagli di tempo perché nel momento in cui lanci un'attività devi sapere che ti assolve diventa un figlio che tu vivi H24 almeno per me è così ma guardandomi in giro chiunque abbia fatto dei progetti se vuoi che funzioni chiaramente se vuoi giocare fai quello che vuoi ma se vuoi fare un qualche cosa che poi stia in piedi a quel punto tu ci metti anime core per quello che dicevo all'inizio a tendere puoi avere la vita che ti piace la qualità di vita che vuoi però c'è una fase di costruzione che è sangue, sudore e lacrime e lo devi sapere e devi anche sapere che c'è una quantità di rischi enorme la maggior parte dei progetti che lanci non funziona mai la maggior parte dei progetti che io ho fatto negli anni ho floppato miseramente ma non un pochino clamorosamente questo lo devi sapere devi sapere che ci sono rischi economici se fai un flop e poi ti indebiti fino al collo questo diventa un grande problema consiglio numero uno non indebitarti fino al collo soprattutto in questa tipologia di progetti un conto se vuoi costruire Airbnb ma nel momento in cui vuoi lanciare un progetto che ti riguarda vedremo come cercare di farlo in un modo sensato cauto soprattutto io non sono uno coraggioso non ho mai fatto progetti così dai mi lancio no no cioè cautamente passi in passetto ecco questa è la tipologia se l'ho fatto io che ho 51 anni un pelato e non sono senz'altro un Elon Musk coraggioso che prende e lancia i razzi tutti ovviamente possono farlo perché si tratta solo di avere un approccio sensato però i rischi ci sono e sono da considerare un po' così da tenere a mente su questo primo aspetto del rischio finanziario non fare delle scelte economiche che se vanno male hanno una conseguenza catastrofale fai delle scelte economiche che se vanno male amen resisti uguale ok ho speso 1000 euro va bene è andata male hai perso 1000 euro lo so che ti ruga però recupererai se invece sei impegnato per un miliardo diventa un casino poi quel debito lì ce l'addossa tutta la vita giustamente dirai ma come fanno da altri miliardi non danno mai miliardo nella vita però è facile che uno inizia a indebitarsi a fare scelte stupide prende dei rischi troppo grandi e poi si brucia l'altro rischio che hai è un rischio di mercato magari hai una bellissima idea e dici fantastico lancio una nuova edicola che venderà i migliori giornali settimanali del mondo peccato che poi il mercato dice guarda le edicole non c'è più spazio mi spiace oppure ti lanci in un animal corpo a fare il tassista nel 2024 e sai che arrivano le auto a guida autonome quanto tempo c'ha quel mestiere davanti sai già che c'ha una data di scadenza come lo yogurt alcuni mestieri oggi hanno una data di scadenza bella scritta evidente tutti lo sanno se lo ignori poi paghi il prezzo di aver fatto una scelta che il mercato poi ti ha spazzato via oltre ai rischi un altro aspetto importante è la gestione delle difficoltà se tu sei un dipendente ovviamente hai delle difficoltà perché se sei un manager di una grande azienda c'hai mille difficoltà ma anche a livelli più bassi a livello gerarchico non più basso come qualità tutti hanno la stessa dignità ma a livello di mansioni più basiche chiamiamole così hai tutta una serie di difficoltà sempre da gestire il problema è che in questo caso tu da imprenditore ti guardi dietro e non c'è nessuno questo è il grande problema non hai qualcuno che fa la pacca sulla spalla e dice vai ce la facciamo o hai una rete a cui appoggiarti di qualche tipo sei un trapezista che va lì e se cade picchia picchia il collo non c'è via d'uscita da quel punto di vista ti devi assumere tu la responsabilità sei tu che decidi è proprio un cambio rispetto a una persona che è abituata a delegare le proprie scelte la mentalità è completamente diversa e devi sapere che è difficile e questo insistiamo è una difficoltà diversa rispetto al dipendente è un po' come quando tu sei magari forte fisicamente però ti metti a fare un esercizio che non hai mai fatto e usi dei muscoli diversi e allora ti stanchi subito io mi ricordo ero andato a fare no ragazzi ero in forma pongistica strepitosa e con un mio amico in Olanda andiamo dalla fidanzata che era una insegnante top di aerobica ai tempi c'era l'aerobica che spaccava io che ero fisicamente ero veramente al mio top clamoroso cioè dopo 5 minuti non stavo in piedi semplicemente usavi tutta una serie di muscoli diversi e qua la stessa cosa tu fai l'imprenditore e usi dei muscoli diversi rispetto ai muscoli di indipendente non perché tu sia meglio o peggio è proprio un mestiere differente e allora devi in un qualche modo sviluppare questa esperienza e questa capacità di resistere alle varie difficoltà che hai che sono difficoltà diverse ad esempio il tempo è una variabile che all'inizio non sai come gestire sei sempre preso con sta roba ce l'hai H24 e ogni due minuti hai un problema nuovo di cose che non funzionano di assilli della banca che ti chiama perché magari hai fatto il prestitino e ti dici oh ma allora quando me lo ridai e tu sei lì strozzato cioè sei sempre in questo stato di tensione permanente perché non sai neanche se funzionerà o meno però ormai la scelta l'hai fatta allora vivi in questa condizione lo devi sapere perché di carattere ci sono persone che non vanno bene per fare questa vita qua le avvertenze di questo bugiardino iniziale dopo cinque minuti che parliamo spero che ti portino a non fare questa scelta se capisci che queste caratteristiche magari non fanno tanto per te se invece fanno per te proseguiamo un'altra caratteristica mentale dell'imprenditore è che in un qualche modo deve essere malleabile per imparare cose diverse perché tu hai dei problemi davanti per i quali non hai mai studiato in vita tua io ho studiato il classico e ho fatto giurisprudenza non ho mai studiato economia finanza contabilità sì la parte di diritto sulla parte legal mi ci sono ritrovato di più se c'è un contratto a parte che non lo so neanche più leggere un contratto ma magari avevo già una forma mentis predisposta per quello tutto il resto a parte digitale mica ho fatto informatica io zero cosa ne sai tu programmazione prodotto coso dns tutta la parte tecnologica non è la più palle di idea marketing chi ha studiato marketing vendita o lo so e allora in continuazione tu hai questa situazione dove hai dei problemi davanti e li devi risolvere o li risolvi tu o li risolvi tu all'inizio non hai il team che ti aiuta Giorgio risolvi questo problema portami la soluzione sul tavolo no Giorgio sei tu cioè puoi prendere il telefono e poi rispondi con un altro telefono e dici sì sì signore ecco Giorgio vai tu questo ti richiede un sacco un sacco di flessibilità e poi la lista dei problemi se vuoi è infinita cioè puoi avere qualunque tipo di casino arriviamo alla fine di questa sezione mentalità imprenditoriale e troviamo le due strade c'è chi è portato per affrontare tutto questo caos caos ecco non è organizzato non hai un dato strutturato non c'è il manuale non c'è la scorciatoia è un caos e tu in un qualche modo in questo oceano qua ok immaginate sei un oceano devi in un qualche modo trovare dei punti d'appoggio ti hai perso non c'è il maceano con le onde e tu cerchi dei punti d'appoggio per iniziare a costruire una mini zatterina allora prima pigli la paperella ti appoggi la paperella e poi ci aggiungi l'orologio di plastica che ti alleggia e cominci a unire capito e dici aspetta adesso metto anche questo di qua e poi in un qualche modo provi a costruire la zattera e poi la zattera si distrugge e riparti così da zero questa è un'altra caratteristica se vuoi lanciare un progetto online continui a ripartire non c'è una situazione stabile a meno di avere un culo clamoroso che capita veramente una volta su mille a me capitava forse una volta di avere proprio un culo clamoroso che ci azzecchi subito boom parti ci azzecchi subito se no non ci azzecchi subito hai un'idea di partenza che in genere non funziona mai a quel punto inizia a cambiarla inizia a rimetterla in discussione bla 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 e tu devi mentalmente it's always the one riparti sempre dal primo giorno riparti da zero riparti da zero ok non ha funzionato questo riparto in questo modo guardati The Martian il film quello con Mad Demon che viene abbandonato su Marte e lui sa che crepa e allora deve trovare una soluzione per non crepare resistere il più possibile fino a che non lo vengono a recuperare se lo verranno mai a recuperare e la sua mentalità è io ho dei problemi a risolvere risolvo un problema alla volta e cerco di svangarla in questo modo non puoi farti prendere dal panico per quanto hai mille paure mille preoccupazioni cioè io ho vissuto nell'angoscia per anni 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 adesso magari un po' meno ma tuttora ti resta quella mentalità lì c'hai l'angoscia di dire se poi non funziona e poi cosa faccio e poi il giudizio degli altri chiaramente inizi a avere sempre questa lente di ingrandimento dove hai intorno a te spesso della gente che non fa il tuo mestiere e ti giudica direttamente indirettamente e se tu fai una roba che non funziona ti senti veramente uno sfigato ti senti il coglionazzo e a quel punto sei lì che ti schiaffeggi ogni giorno e dici Kirlo perché hai fatto e sei così dopo un po' dici basta queste sberle ma dai fermo perché dopo un po' dà anche fastidio pigliare le botte in pace e allora è questa tortura clamorosa ti ho abbastanza dissuaso a farlo sì o no spero di sì perché nella maggior parte dei casi questa non è una roba per tutti è una roba per chi ha questo carattere dove sei un po' strano un po' pazzo furioso pazza furiosa per un qualche motivo lo fai a prescindere non so come dire è come incontri la donna della tua vita o la tua vita e tu vai a prescindere non sai come finisce vedi anche tutta una serie di segnali negativi vai uguale questa è la sensazione lo fai in un qualche modo per necessità ecco questa è la logica che ti vuole trasferire perché se tu ragioni logicamente non la fai un'impresa non la fai mai nella vita perché dovresti lanciare a fare un progetto che ha pochissime probabilità di successo ti avrai solo rottori con le infinite fino a quando arrivi poi alla fine che ce l'hai fatta ma nel frattempo è bagno di sangue infinito botte in faccia calcine cioè perché dovresti farlo però è come dire perché dovresti sposarti perché dovresti avere un figlio oggi in questa situazione mondiale di preoccupazioni cose cioè se tu ragioni logicamente alcune cose non faresti mai nella vita in questo caso però lo fai lo stesso perché ti senti così caratterialmente ti senti così ok papera di Elvis ferma qua il video e continua a fare quello che fai va bene così non c'è problema l'importante è che fai una cosa che ti piace e che va bene per il tuo carattere Groot se ti vuoi lanciare in questo percorso imprenditoriale nonostante abbia cercato di distruggerti io te l'avevo detto se sei ancora qua farò un ultimo tentativo per distruggerti che è la serie di altre preoccupazioni che un imprenditore deve avere una di queste è la liquidità per me il tema della sostenibilità economica del tuo progetto è uno dei grandi argomenti ce l'hai sempre lì quel pallino questo mese abbiamo incassato abbastanza per coprire i costi e tasse le persone che bisogna pagare quando c'è del personale e poi avere tolto 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 qualcosina per pagare la pagnotta sì o no è una cosa che tu c'è sempre in testa e quella è una tua preoccupazione costante alcune persone non ci riescono a vivere con questa situazione preferiscono arrivare a fine mese essere sicuri portare a casa dello stipendio e finisce lì il discorso altro aspetto di questo pippone che però pochi raccontano perché oggi fare lo start up per l'imprenditore è visto come una cosa figa no? dici ah faccio l'imprenditore ma poi poi lo devi fare non è una cosa che nasce da sé ed è veramente complesso faticoso e uno poi ha un boomerang rispetto a delle scelte sbagliate che bastava si fermasse cinque minuti a guardare sto video di avvertenze e dire sai cosa preferisco di no ti faccio un esempio mi hanno invitato andare a attraversare la manica a nuoto io ho una serie di amici ci ho fatto anche un video sono ottimi nuotatori nuotatrici e nuotano fanno enormi nuotati in posti clamorosi e l'attraversamento della manica è un grande classico io lo faccio mai nella vita non fa per me non so nuotare bene non mi piace l'idea di andare con le meduse in faccia che mi massacrano non voglio nuotare per quattro ore di fila nel buio totale no non fa per me va bene con questo non ho nulla contro chi lo fa ma semplicemente non fa per me una volta che tu ti conosci ti risparmi un sacco di casini e punture di medusa altri ostacoli che devi conoscere sono ovviamente quelli legati alla concorrenza quando tu fai un progetto online immaginati di fare uno sport professionistico tu competi con altri inevitabilmente filosoficamente puoi dire ma no io non competo contro nessuno io sono il mio sistema a prescindere non credo cioè puoi dire quello che vuoi ma quando vendi la paperella di plastica se c'è anche un altro che vende la paperella di plastica e promuove le sue paperella di plastica il consumatore deve decidere compro la paperella della Zio Monti o compro la paperella di Diabolik e lì se Diabolik l'hai mai letto Diabolik se preparo lui a promuoversi a fare tutto quello che è un business online di quel tipo il consumatore compra lui non compra te la concorrenza esiste come capire anche in che mercato entri se un mercato super concorrenziale o meno concorrenziale aiuta a rendere un pelo più facile un pelo più difficile le tue attività un ultimo aspetto da considerare è riuscire a decidere basandoti sui dati e non basandoti sempre soltanto su quello che è l'istinto l'istinto è ovviamente importante e ogni imprenditore ha un istinto così che dice a me sembra che quell'attività possa funzionare mi sembra che questo cambiamento del prodotto della comunicazione possa funzionare cioè questa parte c'è però spesso tu ti innamori del tuo progetto questo è il grande problema e diventi totalmente cieco hai questo tunnel vision come a scacchi non vedi che c'è la donna in presa non lo vedi è così sei cieco completamente con le tue fettazze di salame sugli occhi e fai fatica a prendere decisioni giuste uno sforzo che devi fare è mettere in discussione sempre le tue decisioni e pensare ho i dati giusti per decidere sì o no e a quel punto allenare anche la tua capacità di decidere questa è un'altra cosa prima di diventare imprenditore quando ero più ragazzino cominciavo a lavorare per qualcuno non è che decidessi così spesso perché alla fine dei conti non ti dice quello che devi fare e tu lo fai sì poi prendi micro decisioni all'interno di quello che ti è stato ordinato non ci fanno nel mio caso ho stato per dire indicato più ordinato di far lo fai imprenditore invece decidi tu ogni due minuti devi decidere qualcosa gli vorrai ad esempio dare un nome al tuo progetto che nome gli dai che colore è il logo quale logo scegli però a un certo punto quella decisione chi la prende sai tu che la devi prendere non la prende mica tua mamma tuo papà tuo fratello io sai tu vetti lì nel buio della tua cameretta ti farai aiutare spero dalle AI dall'intelligenza artificiale che in questo momento è un aiuto enorme enorme per tutti quanti e cercherai di trovare le decisioni migliori sapendo che nella maggior parte dei casi deciderai sbagliato perché non sei allenato a decidere non hai esperienza nel decidere e a volte fare delle decisioni calmorosamente sbagliate qual è una buona idea da quel punto di vista come hai deciso velocemente una roba sbagliata molto velocemente prendere una contro decisione e correggere il tiro proprio perché come diciamo all'inizio non ti innamori del tuo progetto delle tue decisioni non diventi orgoglioso rispetto alle due decisioni cambi decisione in base al momento in base ai fatti ho deciso di fare il logo rosso e mi hanno detto che è orribile ricorda Shining logo giallo ok fino al problema non sono decisioni catastrofali tornando al discorso della decisione che ha un impatto devastante rispetto alla decisione che ha un impatto devastante batti a leggerti un po' di Bezos e lui giustamente fa notare sempre questa diversità di decisioni ci sono decisioni che puoi prendere velocemente perché tanto puoi tornare indietro quindi vabbè le assistemerai le decisioni invece che richiedono più tempo perché se sbagli quella poi quello è un problema poi quello vai fuori dal mercato poi quello ha conseguenze enormi e allora capire anche questa distinzione può essere finito finalmente il peppone sulla mentalità che è fondamentale però le persone poi lo saltano come sempre so che sarai già arrivato qua senza esserti cuccato tutto il discorso precedente battola a vedere se l'hai fatto perché fa veramente la differenza sono i principi che spesso fanno una differenza ma tutti noi non so perché vogliamo sempre saltarli andare al tecnico ma qual è lo strumento qual è la scorciatoia non ci sono scorciatoie non ci sono strumenti è una attività passo passo che uno cerca di mettere in piedi allora partiamo dal prodotto quale prodotto vendere questa è una domanda che uno si deve fare il mio suggerimento è se parti da zero e sei da solo da solo non partire da un prodotto fisico che per alcuni è ma come non parto da un prodotto fisico no non partire da un prodotto fisico perché il prodotto fisico è molto più difficile rispetto a un prodotto digitale per cui cominciamo a fare questa differenziazione tu puoi vendere un prodotto fisico la tazza oppure puoi vendere una versione di qualcosa digitale cosa c'è di digitale un libro è una roba potenzialmente digitale c'è il fisico è digitale puoi vendere un videocorso un video un film un documentario musica sono tutti prodotti digitali un template un template per Notion un template per Excel per fare delle forze un template un file in sostanza che ti offre funzioni puoi vendere un software un software un altro prodotto digitale se ci pensi puoi vendere delle guide che non sono un libro intero ma magari è una guida specifica la guida per viaggiare in Australia in cammello fantastico è un file che tu vendi è solo un fatto di immaginazione però qualunque cosa che non richieda un contatto fisico è una trasmissione di un file digitale da un punto A a un punto B questo rende molto più facile la tua attività perché se devi vendere invece anche solo un libro io ho provato ad esempio a fare self publishing e ho venduto un mio libro che era lavorability quindi lo sono stampato io è venuto io e fatto tutto truccio e mastruccio anche vendere solo una roba così semplice non è una roba particolarmente complessa non stai vendendo un prodotto che richiede un certo livello di produzione macchinario no 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 è un libro va stampato va spedito ugualmente ti rendi conto di quante menate ci sono rispetto al mondo digitale quel libro banalmente lo devi mettere a qualche parte e avere uno storage e avere un magazzino dove tenere questi libri e lo devi imballare poi lo devi spedire se uno compra lo devi anche mandare pensa un po' e poi se uno lo riceve e non gli piace o non va bene perché era rovinato poi ci ha reso e quel libro poi va preso messo da qualche parte lo devi mandare al macero poi che fine fanno questi libri allora anche un prodotto semplice così se ci pensi ti richiede mille complicazioni se sei da solo vai fuori di testa questo è il problema il mio suggerimento allora è parti da un prodotto digitale troppo più facile troppo più economico semplice da tutti i punti di vista a meno che tu abbia già un'esperienza da quel punto di vista lì e arrivi magari da anni di esperienza nella moda e sai benissimo come funziona tutto il flusso della moda conosci già tutti i fornitori produttori per cui ti viene molto facile fare la tua collezione di magliettine e venderla e non essi un problema perché sai bene come funziona il giro del fumo della produzione delle magliettine fantastico allora fai il prodotto fisico in tutti gli altri casi evitati una marea di rotture e vai con un prodotto digitale festa finita se ti mancano idee su quale tipo di prodotto digitale vendere puoi andarti a vedere siti tipo Gumroad G-U-M-R-O-A-D dove la gente vende prodotti digitali oppure semplicemente ti fai una girata online prodotti digitali quali sono esempi ancora una volta chiedi alla tua AI e avrai una lista infinita di casi di gente che ha venduto di tutto di più non farti confondere dal fatto che un prodotto digitale sia meno remunerativo di un prodotto fisico perché magari dici ma sai se vende un prodotto fisico posso fatturare di più perché magari c'è una mentalità di quel tipo non è così pensa a chi produce software le più grandi aziende del mondo Meta fa software non fa un prodotto fisico è un software che fattura strigliardi Google è un prodotto digitale non è un prodotto fisico ma anche prende il mondo ai videocorsi tu puoi fare milioni di utili al mese vendendo videocorsi that's it cioè questa è la dimensione del fenomeno l'altro possibile prodotto che puoi vendere e o è invece un servizio immaginati di essere una maestra di ballo o maestro di ballo e vendi delle lezioni di ballo tu non stai vendendo un prodotto digitale ma stai vendendo un servizio oppure sei un consulente un consulente TikTok vai dall'azienda vai dal piccolo medio imprenditore e gli offri come servizio la capacità di migliorare il loro account TikTok quella è una consulenza ok in questo caso vantaggi e svantaggi è una cosa molto facile da fare insegno ballo metto su il mio business online e poi vediamo cosa da mettere su e nel momento in cui tu mi prenoti io vengo a casa tua e ti faccio lezioni di ballo that's it oppure ci colleghiamo su Zoom mi dai soldino e io ti insegno il remote questo è un servizio che viene offerto vantaggio e svantaggio dei servizi il vantaggio come dicevamo è che è semplice non hai bisogno di niente di nessuno puoi partire e appena prendi qualche cliente boom sei in pole position sul mercato hai un business legittimo che genera le tue entratine ogni mese svantaggi di vendere servizi è che hai un limite cosiddetto cap sopra il quale tu hai un tot di ore più di quello non è che puoi fare se hai 50 clienti tu non sei in grado di fare 50 clienti e lì devi cominciare a coinvolgere altre persone o a creare prodotti digitali che vengono utilizzati quando tu non puoi prendiamo l'esempio dell'insegnata di ballo se tu fai un videocorso quel videocorso può essere scaricato anche quando dormi fai una guida un libro e allora spesso tu vedi che da un lato una persona vende un servizio e dall'altro lato però cerca di complementarlo con dei prodotti digitali che aumentano il fatturato e aumentano anche la possibilità di raggiungere persone che se no tu da solo non potresti raggiungere sul tema servizio consulenza c'è un infinito mercato là fuori se tu vai su Fiverr Appwork hai intere piattaforme che connettono gente che sta cercando un copywriter con il copywriter gente che sta cercando un programmatore con il programmatore in questo modo tu sei nel mercato hai un tuo business online come freelance in quel caso e utilizzi queste piattaforme per connetto su quale prodotto vendere fisico o digitale poi uno può fare mille discussioni ripeto il mio suggerimento è dare digitale non ho nulla contro al prodotto fisico o al dropshipping non so c'è chi magari fa anche un ottimo business non vendendo un proprio prodotto ma avendo un sito che ti vende un prodotto fatto e consegnato da qualcun altro e tu sei semplicemente il tramite allora hai anche questa possibilità oppure puoi avere tutto il tema del print on demand dove tu non devi fare assolutamente niente sul prodotto fisico e fai solamente da vetrina e da promotore di quel prodotto peraltro solamente non è neanche facile assolutamente anche questa è un'altra strada affattibile ma il mio suggerimento è andare dritto su prodotto digitale per vari motivi mi piace l'idea di poter costruire qualche cosa di mio che ha un valore a prescindere se invece vendo il prodotto di qualcun altro buon per lui ma alla fine io non costruisco un brand mio a meno di costruire sin dall'inizio tutto il progetto di dropshipping per costruire il mio brand però non è facile soprattutto se non parte da zero è allora lo sforzo che proverei a mettere uno sforzo che mi porta il massimo risultato possibile rispetto a quello che ci sto mettendo dentro se invece io mi sbatto come un cammello per costruire il business su qualcun altro o il brand di qualcun altro cioè tanto vale che lo faccio per me questa è un po' la riflessione mia preferenza prodotto digitale ed è più facile ricapitoliamo cosa abbiamo fino a questo punto una mentalità pazza furiosa in estrema sintesi consapevole dei rischi ma anche dell'opportunità con questa capacità di doppia visione sfuma e non sfuma allo stesso tempo abbiamo l'idea del prodotto sapendo di stare lontano a prodotto fisico a meno di essere già esperti di quello cerchiamo un prodotto digitale o se vogliamo ancora più semplificare partiamo da un servizio io ti offro il mio servizetto ora ci serve un'idea sfattiamo anzi tutto un mito sull'idea che devo avere un'idea originale ecco non c'ho l'idea originale ma sai quanti anni sono andato avanti io pensando ecco ho bisogno di un'idea ma non è abbastanza geniale non ti serve un'idea geniale originale per essere attivo e funzionare sul mercato ti basta avere un'idea che magari esiste già ma tu gli dai semplicemente un tocco tuo facciamo degli esempi giganteschi facebook quando è partito ma mica era un'idea originale ma esistevano 770 triliardi di piattaforme social network io vi ricordo quando c'era tribe all'inizio mark pinkus c'era tribe non so friendster c'era myspace c'erano 3000 facebook è arrivato idea assolutamente copiata e non originale ma loro l'hanno eseguita meglio in un modo più elegante all'inizio la proposition di facebook era noi creiamo un'organizzazione più elegante dei social network oppure prendi tesla ci ho fatto un video recente che tesla varrà 30 trillion bla 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 tesla l'idea è fare un'automobile elettrica wow che idea una originale Elon cioè faccio l'automobile ci sono già automobili c'era già l'idea dell'auto elettrica però il buon Mosca l'ha portata con la loro esecuzione la loro originalità bla bla oppure banalmente fatti un giro in centro e guarda che negozi ci sono perché è una pizzeria è un'idea originale però qua ad esempio a Brighton ci sono alcune pizzerie che stanno crescendo l'altro giorno parlavo con il proprietario di una di queste pizzerie ne ha tipo 6 7 adesso ne aprono anche a Londra loro hanno trovato il loro taglio è un taglio diverso fanno le collab con lo chef famoso che fa la pizza un po' interessante poi fanno il gelato alla fine stile Maxi Bon ma con il loro taglio cercano di dare un loro gusto un loro modo di vedere quel tipo di idea che è già vista e stravista e non hai anche tu a questo punto bisogno di avere un'idea originale poi non vuol dire che non devi avere un'idea originale se hai un'idea originale tanto meglio magari ancora nessuno ci ha pensato tendenzialmente qualcuno ci ha già pensato questa è una cosa ricordarsi ma è irrilevante tu vai avanti uguale statato questo mito la formuletta su come avere un'idea l'abbiamo già vista in un video precedente è molto semplice che cosa ti piace a te che non lo so cosa ti piace fare cosa ti interessa particolarmente in cosa sei super brava bravo se c'è qualcosa in cui magari eccelli hai un'esperienza particolare che cosa vuole il mercato e per che cosa il mercato è disposto a pagare oggi non domani oggi compitino a casa per generare l'idea prendi queste tre variabili e scrivi 100 idee 100 idee e poi fai una valutazione ogni idea dici mi piace sì no sono bravo sì no il mercato è pronto a pagare sì no e se hai dei dubbi puoi confrontarti con amici conoscenti butti giù delle idee e provi a vedere che reazioni ci sono vedi una persona dice che figata questa cosa oppure no poi alla fine decidi tu però hai un po' di stimoli usi l'intelligenza artificiale e li hai come supporto per brainstormare e anche organizzare le idee magari gli dici oh mettimi in priorità quali sono secondo te di queste idee quelle che potrebbero funzionare di più in base alle mie caratteristiche bla 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 di qua l'importanza di saper usare questi strumenti di intelligenza artificiale e da lì arrivi alla top 10 poi da quelle 10 inizi a stringere 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 e poi eccola c'ho l'idea ora che abbiamo l'idea fermiamoci un secondo e proviamo a dargli sostanza la cosa di cui abbiamo parlato all'inizio è che o fai un business qualunque esso sia anche se fai 1000 euro al mese che però è sostenibile sta in piedi economicamente se no non è un business sei in due categorie diverse stai facendo un hobby che perde soldi e che ti creerà problemi oppure se sei in startup land è diverso hai degli investitori che stanno bruciando soldi per te nella speranza che prima o poi quella cosa funzioni prende il mercato e facciamo tutti un exit triliardare ma quello è un altro mondo totalmente un altro mondo per il nostro mondo di questa masterclass quello che noi sappiamo è che dobbiamo dal giorno 1 tirar fuori 2 lire perché se no questa roba non sta in piedi allora quello che dobbiamo sapere è quali sono i modelli di business il modello di business è una frasetta un po' fronzolosa che serve semplicemente a ricordarci come si fanno a guadagnare dei soldi in altre parole quali sono i sistemi oggi online utilizzati per fatturare e se andiamo a vedere ad esempio Y Combinator per il mondo delle startup l'ha fatto ma può tornarci utile anche a noi analizzato i modelli di business di tutte le principali piattaforme e alla fine i modelli di business sono stati gli stessi numero 1 è cosiddetto SaaS software as a service in pratica io faccio un software Zoom e tu paghi per utilizzare il mio software molto semplice oppure pensa MailChimp faccio un software che ti permette di mandare delle mail e tu paghi per utilizzare il suo se ti interessa questo modello peraltro c'è un eventone che si chiama Sastr che è dedicato a tutti quelli che sono impallinati rispetto a questo modello di business o non pigli una lira per segnalarti queste varie piattaforme usa quella che vuoi tu cerca quella che vuoi tu ti do solo degli esempi così almeno è più facile da capire quello di questo imparare modello di business numero 2 è così detto marketplace se tu pensi a Airbnb è un marketplace hanno fatto un sito una piattaforma dove c'è qualcuno che mette in affitto la propria casa la propria stanza stanza qualcuno che vuole andarci loro si mettono in mezzo quando l'offerta combacia loro pigliano una percentuale modello di business numero 3 è il cosiddetto usage based in pratica pago in base a quanto utilizzo pensa se devi usare non so AWS di Amazon in base a quanto utilizzo pago spesso hai dei modelli di business che si incrociano e allora il mailchimp di turno o la piattaforma per mandare email oltre a usare il sistema che tu paghi per utilizzare software ci aggiungono anche il fatto che paghi tanto di più quanto più devi usarlo più hai una quantità di mail crescente e più paghi in questo momento pago un botto di mail cavoloso poi hai il cosiddetto transactional che sono aziende tipo Stripe Stripe è una piattaforma per incassare pagamenti poi dopo ne parliamo se devi incassare un pagamento hai bisogno di qualcuno che gestisca il pagamento quando l'utente mette la carta di credito la carta di debito dentro come fai a trasferire soldi da lì a qui cioè hai bisogno di un sistema che lo faccia il gateway di pagamento Paypal è un altro esempio oppure penso a WISE TransferWISE si chiamava prima quando fai un bonifico all'estero loro si mettono in mezzo in sostanza e prendono una percentuale e Stripe fa lo stesso altro modello di business è la subscription l'abbonamento prendi Netflix tag un tot al mese per guardare qualche cosa non ho un software che mi stai dando il prodotto in quel caso è film non possono poi mancare ovviamente la pubblicità meta si basa sulla pubblicità Google Alphabet si basa sulla pubblicità il loro modello di business è porto traffico in un posto e poi l'inserzionista pubblicitario vuole essere presente e io cucco il grano da lì e-commerce altro modello di business nome a caso com'è che si chiama Amaz Amaz Amazon Amazon ovviamente modello di business gigantesco e-commerce è un'altra possibilità che hai poi hai un modello che ignoriamo dal nostro punto di vista che è quello enterprise cosiddetto dove tu sei capito SAP vai a vendere a Coca Cola un progettone gigante quello è diverso hai bisogno di una struttura rilevante non ti presenti one man band da solo e vai a fare l'accordo quadro con Barilla no non funziona così hai bisogno di una struttura però è giusto sapere che esiste il modello di business enterprise poi ha anche tempi diversi è molto più lungo ignoriamolo ma c'è e poi per chiudere il suo modello di business hai il banalissimo one shot cosiddetto hai un videocorso vendi il videocorso io pago il videocorso una volta sola festa finita vendo il libro digitale mi paghi 9 euro fine della nostra relazione perché nel mondo delle start up questo non piace perché in generale tu cerchi dei modelli ricorrenti dove tu ogni mese vuoi vedere che ci sono delle entrate è per quello che tutti cercano di rifilarti un abbonamento anche perché la valutazione poi dell'azienda può essere più alta perché quando uno arriva a comprare sa già prevedere quante persone compreranno il prossimo mese perché tu fai tutti i calchi e dici ok questi sono i miei abbonati questi sono i nuovi abbonati la percentuale dei nuovi abbonati è questa questa è la percentuale di churn quante persone abbandonano ogni mese fai tutte le tue stime i tuoi calcoletti e arrivi in questo modo ad avere il numero di persone che avrai ancora il prossimo mese e quindi fatturato e quindi gli utili il prossimo mese ed è una stima che puoi fare con super super attendibilità se tu invece vendi one shot e poi il prossimo mese quanti comprano boh tiri la molettina e vedi quello che succede oppure se vendi i biglietti per un evento cioè magari un bel evento però poi non sai al prossimo evento quanta gente ancora verrà e questo è il motivo per cui tutte le start up tendenzialmente vedi che si spostano su questi modelli ricorrenti ma è giusto sapere che queste sono le opzioni che abbiamo tra le quali possiamo poi andare a scegliere se prendiamo l'esempio del nostro insegnante di ballo la nostra insegnante di ballo si fa una lista di questi modelli e dice ma io cosa posso vendere o posso vendere il videocorso one shot va bene posso vendere la mia lezione one shot mi paghi e vengo a fare la lezione la posso vendere fisica o la posso vendere su zoom e posso avere dei prezzi diversi oppure posso venderti un abbonamento paghi un totto al mese e hai diritto a x lezioni oppure ti posso vendere un pacchetto di lezioni oppure puoi iniziare a spostarti su un ragionamento più alto e fare un app che è un software as a service tu paghi e c'hai un abbonamento per quest'app che ti dà la gestione di tutti gli studi di ballo benissimo quello è un software as a service oppure puoi spostarti sul modello ad abbonamento fai la netflix del ballo io mi abbono e ho tutti i video di ballo oppure decidi di fare un marketplace metto in contatto tutti quelli che cercano insegnanti di rumba con gli insegnanti di rumba che in inglese si dice rumba scegli tu le potenzialità sono infinite a questo punto hai la tua idea hai i tuoi modelli di business sei con l'approccio giusto e ti pone il problema di partire partiamo 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 fermi fermi il primo passaggio è testare non fare l'errore che ho fatto io tante volte di buttarti dentro testa bassa cercare di costruire tutto il prodotto faccio l'azienda costituisco l'azienda prendo il codice ho l'ufficio faccio tutto e poi il mercato neanche non vuole il tuo prodotto allora dici scusa un attimo ma non potevo pensarci prima e come faccio a pensarci prima oggi puoi puoi testare ancora prima di partire per capire quest'idea funziona sì o no c'è un mercato famoso disposto a pagare oggi sì o no quali sono le reazioni sono reazioni clamorosamente entusiastiche o sono reazioni boh ma chi se ne frega questo è importante da sapere ancora prima di impegnarti e di buttarti a capofitto allora come si fa a testare la propria idea due modi il modo più facile in assoluto che non ti serve niente è usare la mail cosa più semplice che uno si dimentica semplicemente vai online sui tuoi social ovunque tu sia a prescindere che tu abbia 100 follower 1000 follower 10 follower è irrilevante e quello che puoi fare è mettere un annuncio molto semplice dove segnali quello che stai per fare e insegnate di ballo abbiamo detto bene ti interessa imparare a ballare il foxtrot sto per lanciare la mia prima academy di ballo se ti interessa mandami una mail a pippo chiocciolagime.com that's it questo è il modo più semplice per capire se c'è una reazione interessa non ti interessa questo lo puoi fare sui social lo puoi fare deviso con le persone che incontri che magari conosci ma possa andare a pesterare perché in inglese si dice pestering quando annoi la gente non che vai lì erano no puoi andare a tutti i tuoi amici che ti sembrano in linea con questo di più iniziativa e dire oh guarda sto per lanciare questa iniziativa se ti interessa lo sai mandami una mail mandami un messaggio lo puoi fare con quelli che sanno nella tua rubrica telefonica ti fai venire in mente 10 persone 20 persone che magari potrebbero essere interessate a imparare a ballare poi gli mandi un messaggino super semplice non commerciale chiedo guarda sto pensando di fare sta roba è una cosa che ti potrebbe interessare se si insomma fatti vivo finisce lì perché è utile questa approccia perché vedi subito che risposta c'è vedi subito se c'è un mercato interessato oppure no a quel punto puoi fare un passaggio successivo se vuoi subito esporti un attimino puoi capire anche se il mercato è interessato a pagare oggi e allora quando mandi il tuo messaggino o quando scrivi il tuo post sui social puoi aggiungere il fatto che stai pensando di mettere in vendita le prime lezioni a 20 euro allora ok e hai già un prezzo indicativo su cui uno deve confrontarsi oppure lo puoi dire dopo quando uno dice ah sì molti mi interessa questo quanto costerebbe ma guarda queste prime lezioni costerebbe 20 euro allora ok questo è il metodo base più facile che può fare chiunque metodo più avanzato che richiede un minimo di sforzo in più è quello di pensare a un nome di questo progetto montidanceacademy.com bene questo è il nome per la tua ricerchina ti registri il tuo dominio in Italia puoi usare register.it puoi usare godeddy puoi usare nameship basta registrare il dominio ormai è molto facile e ti costa veramente due lire una volta che hai un dominio metti su una landing page su quel dominio come metti sulla landing page puoi usare wordpress se ci smanetti un attimino quando compri un dominio spesso ci hanno anche già il wordpress integrato ci sono siti tipo wp engine ad esempio che hanno già wordpress fai un click e c'hai già wordpress scegli solamente il template c'è il template a monopagina no a landing page una pagina sola e ce l'hai già pronto associato già al dominio quindi non devi neanche fare particolare sforzo oppure non vuoi fare quella roba lì registri il dominio usi strumenti tipo non so c'è card dove c'è un'unica pagina a cui associ il dominio e quando uno cerca montidansacarding.com op vede quella paginetta cambi il testo i colori il font e tu c'hai un sito oppure ci sono veramente mille strumenti si tratta poi solo di cercare di avere quella curiosità di cui parlavamo all'inizio cioè l'imprenditore se sei da solo devi essere curioso e dire come faccio a mettere su una landing page è la roba più facile del mondo devi solo avere il tempo e la curiosità di dedicartici un altro modo di prendere il problema della landing page è quello di usare un sistema che già manda le email gli strumenti di email marketing dove le persone si registrano e poi tu gli puoi mandare una mail e fare tante altre cose tante automazioni hai strumenti tipo ConvertKit che hanno anche delle landing page che sono già pronte dei template schisci il button ed è già collegato a ConvertKit in questo modo quando arrivi sulla landing page uno può registrare la sua mail e tu c'hai tutto il tuo database di mail hai mille strumenti comunque dominio piattaformina per creare la landing page poi ti serve il testo qual è l'obiettivo di quella landing page è uno solo sapere se la gente è interessata sì o no a questa tua iniziativa e lì io devo mettere la mia promessa irresistibile qual è la promessa irresistibile che metto nella mia landing page Monti Dance Academy vuoi diventare il Freddaster del Foxtrot moderno registrati e sarà il primo a sapere della mia nuova iniziativa che ti trasformerà nel Don Lurio di Calla Rata questo è il concetto ovviamente sul copy potremmo parlare sette ore di fila ma il concetto che anche qua uno deve capire quale può essere del testo utile ancora una volta l'AI ti può aiutare quantomeno a strutturare la logica di una landing page qual è il testo giusto da mettere in una landing page qual è un copy che convince di più o di meno l'importante è che ci deve essere una promessa che andrà ovviamente a realizzare una promessa ad Minchiam e un invito a registrarsi che sia chiaro per vedere se una persona che vede questa promessa cioè ti interessa diventare un genio un fenomeno del foxtrot sì o no questo è il concetto lo spartiacque se ti interessa oh probabilmente mi registro se tu fai una landing page di scacchi e io leggo ti interessa arrivare a 2000 halo di scacchi se mi interessa sto cercando tutte le mie forze di arrivarci hai già la mia attenzione mi registro poi vediamo però rispetto a Minchiam che invece odia gli scacchi lui vede quella promessa irresistibile e dice una volta che la landing page di questo metodo di validazione un po' più avanzato gli devi portare traffico come fai a portargli traffico o gli porti traffico dai social che hai se hai un minimo di visibilità se hai zero visibilità decidi un budgettino più piccolo possibile 100 euro e provi a usare quei 100 euro per promuovere i post probabilmente la cosa più facile è usare il mondo meta Facebook Instagram metti il tuo post su Facebook o su Instagram e poi fai promote di quel post con il link alla tua landing page giusto per intenderci se uno vuole fare una campagna pubblicitaria online non fa promote così a caso ma in questa situazione per partire è la cosa più facile senza impazzire oppure decidi di dedicare un minimo di tempo e ti studi come funzionano le campagne pubblicitarie come faccio a ottimizzare il budget delle campagne pubblicitarie qual è il formato che funziona meglio se uso del video quale video utilizzo qual è la durata migliore quali sono i formati migliori bla 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 e inizia btesting eccetera noi abbiamo dei progetti su cui facciamo campagne pubblicitarie massicce e ci sono un sacco di test che facciamo persone dedicate che eseguo solo quello però inizia a spendere magari 100, 200, 300 mila al mese solamente per fare quel tipo di attività allora è diverso inizia a avere persone team qua parliamo di una persona tu solo soletta lui è la tua cameretta e devi gestire tutto allora deve essere anche facile 100 euro scrivi il post promuovi e porti il traffico l'obiettivo è portare un traffico che abbia senso per avere delle indicazioni si sono registrate 10 persone su questa landing page o non si è registrato nessuno perché quello poi ti può aiutare a fare delle considerazioni se non si è registrato nessuno il problema è che non hai avuto traffico cioè non sono arrivate persone sul sito o il problema è che sono arrivate sul sito ma non si sono registrate perché in quel caso il problema potrebbe essere che il testo della landing page non è convincente e se inizi a cambiarlo un attimo le persone si registrano e questo è una fase di studio che devi fare per cercare in sostanza di capire se quell'idea funziona o non funziona piace o non piace ancora prima di partire con tutto l'ambaradan altra modalità che hai per testare per validare la tua idea è quella di andare fuori con un po' di amici persone che conosci che possano essere in linea esporre la tua idea in modo molto semplice in tre minuti dici guarda io vorrei lanciare questa academy di ballo specializzata in foxtrot target uomini pelati sopra i 50 anni come ti sembra questa idea e provi a capire quali sono i riscontri delle persone questo ha dei pro e dei contro il pro è che allarghi il tuo panorama di visione rispetto a quell'iniziativa e ti fanno notare delle cose a cui magari non avevi neanche pensato guarda che quelli sopra i 50 anni pelati foxtrot non possono ballare perché ormai c'hanno l'anca sbilay che lo so ognuno ha le proprie osservazioni su ogni argomento il contro è che a volte hai grande confusione in testa e poi sei tu che devi decidere alla fine quando vedi che le persone sono troppo contente fiduciose rispetto al progetto è un segnale d'allarme perché dici strano perché se no se è così facile forse è un'idea troppo banale non lo so quando invece le vedi che sono totalmente negative a volte hanno proprio ragione altre volte invece sono loro che non vedono un'opportunità quindi c'è anche questo aspetto spesso c'è confusione ecco per me dal parlare con tante persone però un'idea è fare tutte e tre le cose cioè raccogliere idee di persona confronti critiche avere una chiamata alle armi sui social mail e poi magari strutturarlo un po' di più e in questo modo ho un pacchetto diciamo i dati un focus group mio con i primi elementi e in base a quello decido e ho due opportunità opportunità numero uno questa roba non gliene frega un picchio a nessuno di nessuno che è un bene meglio così perché sennò pensa quanto tempo perdi dietro a sta vicenda ipotesi e opportunità vera numero due invece è che c'è interesse wow c'è cento persone registrate così in una notte sono registrati tutti quanti perché perché c'è interesse a volte ti capita come fai a vedere quando una cosa interessa o no si vede è come se tu apri il conto corrente e vedi che c'è un milione in più lo noti se c'è un milione in più a meno che tu sia Bill Gates o Bezos o uno così diciamo un milione in più e un milione in meno perché se ne frega ma se sei una persona normale un milione in più lo noti c'è un'enorme differenza quando un progetto funziona veramente lo vedi subito l'aria si respira di opportunità come un profumo forte che entra e lo senti il profumo se tutto questo non c'è è in riscontro un po' o no o funzionicchia però non è il massimo a quel punto devi prendere una scelta o cambi completamente dici no non facciamo il foxtrot facciamo la salsa facciamo la mazzurca mazzurca molti la mazzurca cambi radicalmente oppure se qualcosa ti dice che però quel tipo di attività effettivamente potrebbe avere le ali per volare allora cerchi di approfondire di più sto sbagliando qualcosa sto comunicando in questa fase di testa al pubblico sbagliato e sto chiedendo a un ventenne se vuoi fare foxtrot e invece dovrei parlare con i cinquantenni ops mi sono portato a cena dieci ventenni e invece avrei dovuto parlare con i cinquantenni cose del genere e provo a mettermi in discussione per riuscire a arrivare da una nuova risposta definitiva perché non hai la certezza l'imprenditore non è nel business della certezza sei sempre insicuro non lo sai se una cosa funzionerà o meno finché la butti là fuori e vedi se la gente compra però quantomeno cerchi di star bene tu con te stesso ho lasciato perdere questa idea ne faccio un'altra perché penso che ragionevolmente non abbia tanto senso non abbia tanto seguito in questo momento poi sono pronto a rimettere in discussione la mia idea se il mercato cambia e ho riscontri diversi magari parto con la mia mazzurca academy e dopo un po' la gente mi chiede il foxtrot e a quel punto foxtrot per tutti siamo arrivati a questo punto in un ciclo che è molto semplice se quella cosa non ha funzionato continui a pivotare cercare di cambiare idea bra 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 fino a che non trovi quella che funziona e quindi la parte negativa è abbastanza facile ricordi che nel negativo c'è anche il funzionicchia quando funziona così e così non è mai il massimo perché poi rischi di avere un progetto che ti porta in una fase un po' di stallo invece una cosa deve proprio dire wow hell yes così no deve funzionare evidentemente evidentemente per te e per gli altri se individui quel tipo di iniziativa parte l'operatività e qui sarebbe bello partire sul prodotto il marketing eccetera che è un errore che ho fatto spesso e invece qua si tratta di costruire un micro business che però ha delle sue regole e la prima regola è che la parte finanziaria deve stare in piedi se non sta in piedi l'abbiamo anche detto all'inizio sei in mezzo a una strada parti e a prescindere da come sta andando poi ti troverai in grande difficoltà cosa vuol dire la parte finanziaria la parte finanziaria significa che da un lato devi fare non un business plan perché business plan a me francamente non è mai servito a niente è servito soltanto quando il sole 24 ore dovevi entrare in blogosfera e che avevi bisogno del business plan gigantesco dei prossimi 20 anni se no serve per te per farti un'analisi accurata e complessiva dei costi e tutto quanto ma è anche troppo rispetto all'inizio in questa fase qua cioè tu parti non hai più pallida idea di cosa fare quello che devi fare è una cosa molto più contenuta dove in modo molto pratico carta e penna o excel in base a quello che ti piace di più come sei più bravo tu faccio notare che io ho fatto il classico quindi non sono uno da conto come si usa dire però ti metti lì e devi tenere alcuni numeri in testa devi cominciare a fare delle stime anzitutto di fatturato quale fatturato stimi di fare quante lezioni pensi di vendere abbiamo già detto che c'è un modello di business se nel tuo modello di business hai previsto che c'è un abbonamento e lo vendi a 99 euro al mese quanti abbonamenti pensi di fare nei primi 10 giorni nei primi 20 giorni nel primo mese nei primi 3 mesi nei primi 6 mesi ovviamente è una previsione non lo sai se sarà vero o meno però cerchi di avere anche qua degli scenari o un scenario più ottimistico un scenario più neutrale scenario più pessimistico cautelativo ti invito sempre a stare sullo scenario più cautelativo perché purtroppo uno può avere le migliori aspettative ma spesso no? ti ritrovi che non funziona proprio come credevi allora scenario pessimistico quante lezioni di ballo vendo ogni mese? bam! parto così quello mi dà il fatturato però attenzione non è quello che mi porto a casa perché poi ho una serie di costi quali sono i costi della mia academy foxtrot mazzurca o quello che è in quel caso il costo di istruttore che magari sei tu da solo all'inizio e ok ti metti sei tu poi hai il costo della sala da ballo se vuoi andare in una sala da ballo o puoi dire no io quel costo non ce l'ho perché vado a casa del cliente oppure faccio lezioni su Zoom ok fai la lista della spesa tutti i costi possibili devo comprare un paio di scarpe da ballo nuove ogni mese o lo so ho il costo tecnologico se devo registrare il dominio devo fare un po' di pubblicità non la faccio la pubblicità va bene magari non la faccio subito ma magari la faccio tra sei mesi allora il costo lo metto tra sei mesi metti giù tutti i tuoi costi c'hai la piattaforma l'hosting la parte grafica design usi un template magari su Canva gratuito però Canva 2 lire ti costa metti insieme tutto la piattaforma e mail marketing poi vediamo altre cose hai costi tecnologici hai dei costi poi che purtroppo non puoi evitare il commercialista sì certo puoi farti calcoletti tu però è un casino come fai a costituire la tua società star dietro alle scritture contabili il versamento dell'iva la dichiarazione i vari adempimenti ogni paese è diverso io vivo in Inghilterra tanti anni è più snello probabilmente qua in UK però ugualmente c'è una serie di menate che vanno gestite e se non le gestisci poi è un problema un altro centro di costo che uno magari all'inizio sottovaluta la parte legale sì puoi usare per fare il tuo terms and conditions le tue condizioni d'uso quando uno arriva sul tuo sito e dice faccio la lezione a quali condizioni generali di utilizzo è soggetta questa lezione se uno si fa male cosa succede se cancello e poi non posso rifarla come viene disciplinata questa situazione e via via e poi usare magari delle piattaforme senza andare da un avvocato in Italia c'era Ubenda ad esempio piattaforma italiana che ti dava la normativa sulla privacy e le condizioni generali di utilizzo magari puoi utilizzare quelle oppure vai da un studio legale e dici guarda a me serve questo questo è il progetto quali sono i documenti principali di cui ho bisogno ho bisogno magari di un contratto standard tra le parti da utilizzare perché magari voglio formalizzare la mia partnership o quello che è hai bisogno di una serie di attività inevitabilmente nel tuo piano finanziario allora capisci che hai da un lato hai fatturato quanto incassi con le tue stime poi hai tutti i tuoi costi e poi non è finita lì perché diceva bene togli tutti i costi poi c'hai le tasse da pagare quanto paghi di tasse e tolto poi tutto alla fine togli quanto ti resta in saccoccia questo è il tuo continuo calcolo per capire se ci stai dentro o non ci stai dentro se ti puoi permettere di spendere di più di prendere magari una persona aggiuntiva sì no quanto lo puoi pagare è una serie di valutazioni che fai in continuazione che devi sempre monitorare per vedere qual è l'andamento stiamo crescendo cresce il fatturato ma crescono anche i costi oppure ho un margine che resta sempre ottimo e questo è un oggetto di studio che quando sei da solo è una bella menata oggettivamente una bella menata ma senza una consapevolezza vera economica non si va da nessuna parte il vantaggio però di fare da subito questa panoramica finanziaria è che tu inizi subito a vedere quali sono le aree chiave quali sono le aree di cui avrai bisogno perché ti renderei conto che c'è bisogno di una parte di contabilità c'è bisogno di una parte tecnologica c'è bisogno di una parte di prodotto c'è bisogno di una parte legale c'è bisogno di una parte di marketing marketing e vendita e via così hai tante aree all'interno del tuo business e all'inizio sarai tu da solo a fare tutto c'è il cappellino di direttore marketing poi lo togli c'è il cappellino di responsabile contabilità lo togli responsabile customer care assistenza clienti responsabile prodotto sei sempre tu tipo i fratelli bulgari e adesso i domatori di leoni dentro e adesso gli addestratori di lefanti sempre loro questo è il mestiere di chi parte da solo e quando poi decolli calmarosamente ogni area avrà il responsabile di quell'area o la responsabile di quell'area con tutte le persone che lavorano in quel settore il dipartimento marketing avrà 50 persone fantastico però il meccanismo è sempre lo stesso devi sapere quali sono i punti chiave della tua aziendina aspetto finanziario e aspetto legale subito all'inizio quando parti così almeno dormi tranquillo hai contratti a posto cioè tutta questa parte a posto una volta fatto questo esercizio parti nell'implementazione l'implementazione richiede che anzitutto costituisci una sorta di forma giuridica che ti permetta di vendere magari decidi di costruire non so se sei in Italia un SRL o magari solo a partita IVA un regime forfettario un forfettario chiaramente ogni paese è diverso magari se sei in Brasile è totalmente diverso qua in UK tipicamente costituisci una LTD una società inglese come fosse un SRL e a quel punto la società può fatturare è un ente giuridico che può fatturare il problema è che se non hai nulla di tutto questo è un casino cioè come fai a fisicamente incassare la fattura chi la fa dove non puoi operare quindi l'implementazione dopo che hai fatto tutto il test diventa fondamentale lì ti aiuterà il commercialista di turno che dici va bene c'è bisogno di una partita IVA perché stimi di fatturare sotto ai 50.000 euro 70.000 euro 10.000 euro quello che è oppure dice no costituiamo magari qua a Brighton l'altro giorno parlavo con un amico che ha costituito una Ceriti in sostanza che ha enormi scravi fiscali ma loro oggettivamente hanno uno spirito di aiuto sociale fanno un sacco di cose ovviamente fattureranno però hanno questo regime anche agevolato facilitato e lì è l'aiuto del tuo consulente commercialista scientificamente che ti dà un'indicazione su dove andare a parare e tu cerca di trovare la soluzione migliore chiaramente spendendo il meno possibile all'inizio sei sempre tirato altri aspetti di implementazione oltre a assicurazioni c'è bisogno di un'assicurazione sì no nel caso del nostro amico assegnante di ballo se facendo la cucaraccia uno inciampa e sbatte la testa sei assicurato o non sei assicurato cioè avrai bisogno di alcune assicurazioni più o meno a seconda di quello che fai se tu vendi un prodotto digitale magari vendi un videocorso anche meno avrai una serie di problematiche magari diverse e minori rispetto a fare dei workshop con cento persone insieme che si saltano addosso fai o fai seminario di MMA chiaramente hai dei rischi diversi e ritorniamo lo vedi all'aiuto legale hai bisogno di questa parte finanziare legale all'inizio c'hai bisogno o di studiare bene la materia tu o quantomeno di farti dare una mano iniziale per non fare delle cazzate impostare le procedure nel modo giusto è una scatola immaginati contenitore se tu le imposti bene all'inizio poi dopo è tutto più facile a questo punto avrai la tua partita io ho la tua società costituita tu hai il contratto i pronti la tua normativa pronta sei a norma e sei pronto pronta a operare un'altra scelta che devi prendere ci avrò un ufficio sì o no all'inizio se sei da solo se sei da solo lavorerai da casa cioè io lavoro tuttora da casa e da anni lavoro in remoto sempre con le mie collaboratrici i miei collaboratori questo è quello che faccio io tuttora magari però tu hai la possibilità di avere un ufficietto a cui appoggiarti allora è un'altra possibilità l'ufficio apre il discorso della gestione dell'ufficio avrai tutte le problematiche dell'ufficio fisico il mio suggerimento all'inizio parti senza ufficio è più facile ancora una volta come il prodotto fisico è ovvio che se tu hai l'ufficio non è gigantesco puoi produrre tutto più facile è ovvio che è meglio ma all'inizio partiamo per il posto che non ce l'hai quello lascia perdere l'ufficio lavorerai in remoto usi digitale al massimo lo spremi come un'anguola prossimo passaggio dopo l'idea la validazione tutto sei bello a norma tutto pronto preparato fantastico si parte questo prodottino online ha bisogno di alcune componenti un po' come per costruire un lego cioè hai dei tasselli quando vendi online di cui hai necessariamente bisogno quali sono questi i tasselli sono tasselli diciamo tecnologici che però rendono possibile anche la transazione online perché se no tu sei impossibilitato a fatturare a incassare a connetterti con le persone con cui vuoi connetterti hai bisogno di questi tasselli in generale lo puoi fare in mille modi diversi ti dico una infrastruttura di base super semplice con cui però puoi essere tranquillamente operativo innanzitutto hai bisogno di una landing page perché dico non un sito ma una landing page perché alla fine dei conti più che un sito che ha 150 pagine che poi vanno aggiornate non ti ricordi cosa c'è scritto tu hai bisogno di una paginona cosiddetta landing page che offre chiaramente la tua attività il tuo prodotto il tuo servizio that's it questo è quello che tu vai a offrire per fare questa landing page probabilmente wordpress è la scelta più semplice decidi tu l'ostine da utilizzare la grafica da utilizzare hai anche sistemi di AI che adesso ti creano il sito con le AI su questo hai mille opzioni ora all'interno di quel sito lì tu hai bisogno di alcune componenti questa paginozza c'è bisogno di alcune componenti devi poter incassare un pagamento numero uno e per fare questo hai bisogno di un cosiddetto processore di pagamento due payment gateways che sono super famosi sono Stripe e Paypal asset in modo molto semplice tu ti crei un account Paypal o su Stripe gli metti i dati della tua azienda o della tua attività e poi hai la possibilità di connetterli al tuo sito e quando vuoi vendere qualche cosa questa roba in automatico ti dà la possibilità di processare il pagamento e di farlo arrivare su quello che è il tuo conto corrente o sul tuo conto Paypal o sul tuo conto corrente facile in cambio di questo servizio abbiamo visto nei modelli business queste signori si tengono una percentuale che va calcolata nei famosi tuoi costi l'altro strumento di cui ti renderai conto di aver subito bisogno è uno strumento di mail marketing perché una volta che le persone comprano poi queste mail da qualche parte devono finire e se li vuoi contattare perché magari hai una nuova offerta hai un workshop hai lanciato la tua app qualunque cosa tu abbia intenzione di fare deve essere molto facile contattarli o magari vuoi lanciare delle automazioni ogni tot vuoi che parta una mail che ha un'offerta fantastico come fai a fare la manina hai bisogno del sistema che lo fa le piattaforme più famose che è in circolazione sono MailChimp ActiveCampaign ConvertKit la mamma di Goldrick ce ne hai 5 miliardi Beehive di recente va anche per la maggiore ne hai 3000 anche piattaforme italiane scegli tu la piattaforma che ti piace di più ma l'importante è averla poi hai bisogno di analizzare questo traffico che arriva cioè devi sapere questo mese abbiamo avuto 100 persone sul sito o 2 come fai a saperlo non è che vai aprire il server e dire non vai a vedere solo persone hai strumenti semplici il più famoso è Google Analytics è gratis picchi dentro un codicillo che ti dà Google e lui fa un monitoraggio e poi sulla pagina di Google Analytics semplicemente vedi quante persone sono arrivate sul sito e mille altri dati con cosa si collegano da dove si collegano si collegano da cellulare o si collegano da desktop da dove arrivano arrivano dai social arrivano da Facebook da dove arriva e hai tutta una serie di dati anche iper 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 complessi da analizzare cioè puoi andare super granulare ai persone che fanno solo quello di mestiere il Google Analyst il Data Analyst lì puoi veramente spaccare il cappello in quattro l'importante però è tracciarlo hai questi dati e a livello super basico sei in grado sempre di sapere se ho persone che stanno arrivando o no perché magari un mese non vendi una livella e dici porca miseria qual è il problema il problema ancora una volta è che la gente non arriva sul sito o arriva sul sito e non compra allora cosa posso fare altro strumento di cui hai bisogno nel momento in cui vendi un prodotto digitale è una qualche piattaforma per gestire lo suo prodotto digitale facciamo un esempio immagina di voler vendere un videocorso come fai a far sì che quando uno ha comprato poi gli arrivi la mail in automatico con il link per entrare in un'area dove ci siano tutti i video del videocorso cioè te la costruisci tu la piattaforma no vai a utilizzare piattaforme già esistenti ce ne sono alcune nel caso di videocorsi molto famose sono kajabi teachable c'è anche teiuto in Italia cioè ne hai diverse e tu scegli la piattaforma che ti semplifica però un bel po' la vitaccia perché in pratica hai un videocorso con dieci video fai pietà prendi li carichi sulla piattaforma devi solo scrivere il titolo la descrizione e poi dire questo videocorso costa cento euro e lo vendo con stripe clicca qui per connetire stripe clic e anche con paypal sì clicca qui conneti paypal clic la vendi in page come la vuoi la vuoi blu la vuoi verde la vuoi rossa la vuoi a due colonne tre colonne due colonne blu ok pubblica pubblica e lui ti fa tutto sto mestiere qua in quel caso potenzialmente ti risolve anche il problema di avere un landing page a parte usi solo quella piattaforma lì il vantaggio è che zero sbatti lo svantaggio è che magari il livello di personalizzazione non è totale come potresti avere se fai una roba per i fatti tuoi però all'inizio può andare benissimo così oppure immaginati di voler vendere dei template sai quanta gente ha fatto un sacco di soldi vendendo dei template 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 di produttività template per notion template per cgpt prompt migliore per cgpt qualunque tipo di template ti venga in mente hai piattaforme alla gamrod di cui abbiamo accennato in precedenza che ti offrono già tutta questa parte inclusa prendi una percentuale alta in quel caso se non sbaglio 10% non so se sia aggiornata ad oggi o meno però controllala e hai piattaforme che fanno tutto tu carichi semplicemente il file stabilisci il nome e il prezzo hai altre possibilità se c'è uno sconto non c'è uno sconto insomma hai tutta una serie di variabili con cui puoi giocare e alla fine dei conti schiesci un button e hai una pagina pronta e comunichi quella cosa ti serve altro elemento o ovviamente mi piacerebbe avere una guida definitiva dove ti dico tutto 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 e non mi dimentico niente invece inevitabilmente quando si parla di questi argomenti ci si dimentica sempre mille altre cose che uno dice ah molti ma non hai parlato anche di eh lo so me la sono dimenticata diamo per scontato che questi sono un po' gli elementi importanti di base fondamentali che uno deve conoscere e poi hai sempre altre 3.000 variabili eh oh c'è un po' di sforzo vado anche tu però a belen customer care questa è una cosa che magari all'inizio puoi mettere un secondo da parte a livello di piattaforma e quando uno ti manda una mail semplicemente registri un dominio il dominio ti dà la possibilità di avere una mail montidanceacademy.com avrò marco chiocciola montidanceacademy.com uno scrive a quella mail e io rispondo con quella mail e l'assistenza clienti la faccio così appena inizia a crescere un pochino ti renderai conto però che hai bisogno di piattaforme stile Zendesk per dirne una che ti aiutano a gestire tutti i ticket che arrivano con le richieste hai risposto non hai risposto e ha tutta una serie di strumenti di automazioni anche in quel caso hai un sacco di opzioni parcheggiava un attimo sta roba non ti serve all'inizio però ricordati che prima o poi ti torna utile ok direi che a questo punto hai un po' tutta la lista della spesa sei in pool position per vendere e come si vende adesso? si vende promuovendosi e come ci si promuove direi tu hai due modalità principali hai una modalità organica cosiddetta e una modalità invece a pagamento la modalità a pagamento è semplice dal punto di vista concettuale paghi per avere visibilità paghi sui social per dare visibilità ai tuoi post su twitter fai un tweet poi paghi Elon e lui dà visibilità al tuo tweet fai un video su youtube paghi youtube e lui dà visibilità al video sul pubblico che vuoi raggiungere oggi segue la mia giugno 2024 piattaforma che funziona clamorosamente bene dal punto di vista dell'efficacia pubblicitaria è l'universo meta instagram facebook hanno talmente tanti dati degli utenti che quando fai delle campagne sono in grado davvero di targettizzare bene il messaggio sul pubblico che interessa di più puoi dire ma anche linkedin per dire funziona molto bene è vero però ad oggi costa anche un botto rispetto a meta quindi ci sono una serie di trade off da fare di scelte che devi fare dire ok qual è il mio budget tra parentesi budget poi potresti dire faccio gli spot in radio in televisione le affissioni cioè puoi fare qualcosa e non ti consiglio nulla di analogico chiaramente troppo più facile la parte social molto più veloce e funziona molto meglio a meno che tu sia coca cola allora lì è diverso se però il budget è zero a quel punto la tua strada di promozione è una strada organica su questo ho fatto qualche miliardo di video su come ci si promuove online magari se ti interessa lasciano nei commenti posso fare una intera masterclass su come si crea un brand personale un brand aziendale come ci si promuove insomma se ti interessa l'argomento magari vado a testa bassa e mi immergo anche in quell'argomento lì e tutti gli argomenti che abbiamo tradotto oggi in realtà su ognuno puoi fare 150 masterclass su ognuno qui è un riassuntone questo ma quantomeno come linea guida per la promozione organica il mio suggerimento è scegliere una piattaforma scegliene una che pensi che sia la piattaforma giusta per i tuoi clienti perché dici gente sopra 50 anni pelati li trovo di più su TikTok secondo te o li trovo di più su Facebook probabilmente su Facebook è proprio il fatto anche generazionale scegliere qual è la piattaforma giusta per la tua audience scegliere qual è la piattaforma giusta per te per le tue caratteristiche perché magari sei incapace a fare video e allora se ti metti su TikTok sarà anche la piattaforma giusta per quel prodotto che hai deciso di fare però non funziona e il testo invece funziona molto di più su LinkedIn o anche Facebook peraltro il testo inizia a funzionare o anche le immagini con il testo dentro su Instagram o Twitter dipende come regola generale all'inizio una volta che la piattaforma giusta per il tuo cliente lo sforzo è uno sforzo di continuità sapere che quella è una delle tue attività di business non è un'attività che fai in ritagli di tempo per stare in piedi tu hai bisogno di creare contenuti bene su una piattaforma meglio essere Batman su una piattaforma che capita a mutanda in tutte all'inizio stai su una piattaforma scegliene una con le caratteristiche detto detto e lì ogni giorno tra le tue attività c'è quella di buttare fuori i contenuti 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 che siano i più interessanti possibili i più utili possibili i più validi possibili nel caso del nostro il creativo del business del Foxtro per pelatici incontenni è chiaro che quello che butterei fuori io sono lezioni di ballo ti insegno a ballare cioè ogni volta ti do i consigli le tre cose da fare le tre cose da non fare la mossa segreta dell'oculto nanto per fare uno chassee via così inizi a buttare fuori i contenuti con la solita logica che abbiamo utilizzato anche per generare un'idea per il nostro business genero 100 idee se io l'argomento lo conosco ti dico che 100 idee mi vengono fuori velocemente non ce l'hai 100 idee usa le AI per aiutarti a generare 100 idee fatti un po' di ricerche su quell'argomento quali sono i contenuti più visti più visibili e cominci ad avere una tua strategia di contenuto che non è facile non è facile per niente ci vuole tempo ma inizia a essere un'abitudine come sai che devi migliorare il prodotto che fai dall'altro lato sai che hai dei contenuti che devi produrre questo è parte della tua attività di ogni giorno e all'inizio non vedrai inevitabilmente risultati ma questo è uno dei processi da mettere in pista poi nell'immediato per la ricerca dei clienti ti puoi muovere in mille altri modi puoi semplicemente essere alla vecchia maniera inizia a dire dove vado a spingere per trovare clienti in target ah ok 50 anni pelati dove sono ma anzitutto sono genitori probabilmente non perché siano pelati ma perché sono stati genitori insomma dipende dall'età in cui hanno avuto i figli e allora magari le scuole possono essere un buon posto dove raggiungerlo sì no dove si trovano qua i 50 anni pelati al pub fantastico posso picchiare dentro un volantino nel pub sì magari è facile è in target sì o no non lo so e quello che provo a fare è una volta che ho una buyer persona chiara in testa inizio a pensare a tutto quello che quella persona fa che cos'è che legge su quali siti va a documentarsi quali film guarda dove va in vacanza dove va nella giornata che esperienze fa e ho una mappa precisa e quello che cerco di fare è sovrappormi a questa mappa con il mio messaggio con la mia comunicazione per cercare di trovare un incontro poi le modalità della comunicazione sono infinite e non è lo scopo di questo video però un obiettivo è quello di essere sempre allineato io ho la mia identità nel mio piccolo business e cerco sempre di avere quel tipo di identità il mio taglio famoso iniziale me lo porto dietro sempre se il mio taglio è un taglio scientifico perché ho trovato un metodo scientifico per ballare meglio ok a quel punto anche la comunicazione che faccio deve riportare il mio metodo scientifico non può essere una comunicazione alla diesel oppure supercazzosa no c'è il metodo scientifico c'è in comunicazione ci sarà nel prodotto ci sarà nel design cerco di avere questa identità d'insieme che provo a comunicare all'esterno questo è il film che mi sono immaginato partendo da zero e senza budget risolve anche tutto questo sistemone il problema della vendita quando uno parla di questi argomenti poi dice però vuoi come faccio a vendere io non sono un venditore la sai questa frasetta che si sente sempre e io in primis non sono un venditore quando vedo il video del Wolf of Wall Street che dice vendimi questa penna ma ok no abbiamo pali di idee di come venderti una penna anche perché il mio approccio è senti la vuoi la penna sì o no se no la vuoi va a fare in culo cioè non è che sto qua a pregarti per avere la penna quindi il mio approccio commerciale non funziona tanto bene mettiamola così oltre a essere pessimo col customer care perché se uno si lamenta con me dico senti se non ti va bene arrivederci non è che sto lì a pregarti così resti come cliente e questo è chiaramente un approccio che non va bene per un'azienda ma è importante conoscersi ognuno ha il suo carattere nel caso della vendita è di grande ispirazione sapere che gente come Page e Brink hanno fatto Google o gente come Zuckerberg non sono mica dei grandi venditori porta a porta non ti venderebbero uno spicchio di niente ma sono stati geniali nel creare dei sistemi che permettono di vendere nel tuo caso nel momento in cui hai la tua piattaforma che abbiamo visto online arrivi con la landing page pensata bene tutti i tuoi sistemini quello è il tuo commerciale non hai uno che chiama e cerca di venderti l'enciclopedia o venderti al via pover no il tuo sito chiamiamolo così è il tuo venditore e questo risolve anche un problema di essere introversi essere timidi non voler sapere bene come vendere ma certi quanti professionisti ci sono che sono molto a disagio a chiederti dei soldi a trattare discutere a parte online togli questo problema qua non c'è ma mi fai lo sconto magari lo sconto è incluso nell'offerta ho un pacchetto di lezioni che puoi comprare se ne compri 10 sconto 20% è incluso nell'offerta lo vedi già lì oppure paghi il prezzo che è se no magari mandi una mail e la risposta sarà via mail e se ulteriormente se è disagio viviamo in questa era dell'AI che ti aiuta anche a scrivere la mail di risposta qual è una risposta utile che potrei dare su sta vicenda e ti aiuta anche a fare questo anche integrata adesso Gmail ha la possibilità di fare magic editing e l'AI ti sistema la risposta e ti aiuta da quel punto di vista se sposti allora l'attenzione dalla vendita tradizionale alla vendita online d'altronde questo video è come se crea un business online e quindi tendenzialmente vendi anche online nella maggior parte dei casi ti rendi conto che il tuo focus diventa come faccia a migliorare quella famosa landing page come posso testarla puoi fare degli A-B test provi due landing page diversi hai strumenti ancora una volta come un bounce unb o unce ce n'hai mille di questi strumenti e testi due landing page diverse magari una 100 persone arrivano 5 comprono e l'altra 100 persone arrivano 10 comprono porca paletta lo stesso ma questa funziona molto meglio e inizi a concentrarti anche per migliorare questi aspetti magari è un fatto di design di usabilità magari è troppo lenta la landing si carica lentamente la gente va via magari il testo che non va bene magari è tutto bello però quando poi uno va a pagare c'è qualcosa che mi preoccupa e se invece gli aggiungi tre loghetti che tranquillizzano sito verificato è presente quando vedi i siti di e-commerce che hanno tutti i loghetti per tranquillizzarti sul fatto che è sicura la transazione tutti questi aspetti qua magari uno in modo inesperto si dimentica dei dettagli importanti magari hai il carrello tutto scritto in inglese ma l'utente sta in Spagna e quindi non capisce bene l'inglese e basterebbe usare uno strumento che è in automatico c'è la traduzione e via così hai mille dettagli da sistemare tecnici e in generale come imprenditore hai mille dettagli da sistemare in tutto il tuo percorso imprenditoriale ti auguro davvero di avere grandi risultati se ce n'hai qualcuno condividimelo sarei solo felice di saperlo e di essere stato una minima parte di questo successo che ti auguro sia straordinario da sbarbato una volta avevo un incontro galante molto galante era diciamo un incontro chiave per capire se l'amore sarebbe sbocciato oppure no allora mi ricordo che gioco la carta floreale penso mi presento con un bel massimo di fiori in modo che vado a coronare questo proprio questa relazione e bam insomma e lì scatterà la scintina insomma questa era la mia folla idea un'analisi diciamo molto sofisticata totale vado da sto fioraio e il fioraio cosa mi dice e ti do un mazzo standard o vuoi un mazzo che aprirebbe ogni porta e tipo il mazzo standard costava 10.000 lire e il mazzo che apriva ogni porta costava 100.000 lire insomma io ci ragiono un attimo e poi dico vai col mazzo che apriva ogni porta e questo mi fa un mazzetto insomma che poi era patetico e poi peraltro ha aperto nessuna porta di niente ma chiusa questa parentesi il tema del prezzo resta come dice Warren Buffett il prezzo è quello che paghi ma il valore è quello che ottieni ci sono mille ragionamenti sbagliati che si fanno intorno al prezzo allora voglio provare a buttargli alcune riflessioni utili per scegliere il prezzo quando devi scegliere il prezzo per il tuo prodotto servizio start up quanto meno riflessioni e poi fai quello che ti pare parliamo la chiamavano bocca di rosa pipiru 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 considerazione numero uno è che in genere quando si parla di prezzo si parte da teorie tipo cost pricing quanto mi costa questo oggetto qua e poi a questo punto quanto marginello ci metto su e quello è il prezzo finale del prodotto si ma anche no perché poi hai un sacco di aziende pensiamo a Amazon che vendono in perdita no? oppure un'altra teoria è quella di valutare il prezzo che c'è sul mercato e poi tu applichi un prezzo che è uguale un po' più basso un po' più alto in tutto questo gli esperti di pricing ci dicono beh però ricordi che il prezzo poi deve essere variabile non può essere un prezzo fisso una volta guarda i siti di commerce il prezzo cambia in continuazione c'è Bobby che sta mangiando tutta la storia facciamo però alcune considerazioni come nell'esempio iniziale del fiorista mi prezzo qualcosa di totalmente irrazionale sapete la solita frasetta che si dice che uno compra emotivamente e poi giustifica razionalmente è una frase fatta un po' da bacio perugina però è così alla fine dei conti bene la gente compra della roba del cifre pazzesche ho visto un letto che costa un milione e due magnetico l'avete mai visto e c'è chi lo compra capito la seconda considerazione è che quando si parla di prezzo abbiamo tutti un po' questa paranoia di vendere a ribasso non è che poi costa troppo hai paura che siccome costa troppo allora uno non te lo compra che per una maggior parte dei casi perché non è il prezzo la variabile ma ci torniamo tra un secondo ma il punto di partenza è che il prezzo dipende anche dall'aspettativa voglio dire se vai in un ristorante arriva il sommelier e ti dice guarda allora abbiamo una bottiglia pazzesca un sassicaia nato incredibile quel l'inconfondibile aroma del piru piru impostato e costa 3 euro la bottiglia tu lo guardi e dici really? forse prendo il tamernello che questa è una cioffecca di sicuro non può costare 3 euro quella bottiglia lì ti aspetti che costi un cifro spattacchioso pazzesco altra considerazione quando si parla di fare il prezzo in base al mercato è veramente la ricetta per lo strapiombo perché il prezzo la figura devi fare tu lo decini tu il prezzo il fatto che un altro fisioterapista faccia pagare 10 euro per un fisioterapimento che cosa c'entrerà mai con te se fai il fisioterapista magari ha un'altra tipologia di tecnica tu fai il tuo prezzo magari tu hai una tecnologia pazzesca che lui non ha o magari tu sei in una zona piena di miliardari arabi che sono abituati a spendere 10.000 euro per ogni digitamento che gli fa un fisioterapista il prezzo non lo può fare il mercato il prezzo lo facciamo noi lo decidiamo noi altra considerazione importante il prezzo soggetto a mille variabili tra queste c'è il come tu vendi il tuo prodotto o servizio e come lo distribuisci facciamo un esempio è diverso se tu vendi un prodotto sell service che ha un costo d'acquisizione basso la gente trova online viene sul sito compra per i fatti suoi arrivederci e si usa il software o si usa il videocorso quello che gli vendi rispetto a vendere con una rete di agenti un sistema che richiede 10 persone per installarlo formazione supporto training continuativo azze e mazze il prezzo è anche in funzione di tutta quella che è la tua struttura se tu hai una struttura di costo che non sta in piedi rispetto a un certo tipo di prezzo o vendi in perdita perché ha la tua strategia di business oppure sai che non è sostenibile vendere sotto un certo prezzo altra considerazione sul prezzo guardatela qua è qua piena di cicatrici di vita vissuta quello che impari è che tu fai lo stesso sforzo più o meno per vendere un prodotto a 1000 euro o a 100.000 euro non è che è 100.000 volte più difficile vendere un prodotto facciamo un esempio se tu fai una consulenza non è che se tu vendi una consulenza a uno che ti dà 5000 euro questo ti rompi i coglioni molto di meno rispetto a uno che ti sta pagando a 500.000 euro guarda che rompi i coglioni allo stesso modo anzi di più perché quello che paga meno è anche tendenzialmente un po' più rompi i coglioni perché magari per lui cazzo che i 5k sono tutta la sua vita invece quella 500k dice si vabbè è un altro fornitore capito è abituato a una logica di servizio anche diversa spesso l'atteggiamento di chi spende poco è quello di non valorizzare quel prodotto o quel servizio ha bene lo stesso anche con gli speaker se uno speaker di un evento costa 3000 euro vabbè arriva lascio aspettare così se arriva Oliver Stone che gli ha dato 100.000 euro gli garantisco che sei molto più attento a usufruire al massimo di quel servizio che hai comprato oppure altri esempi è stupido semplice avete mai comprato un divano l'avete pagato 2 lire e a quel punto sul divano ci spalmi la nutella ci salti sopra con le scarpe sporche a calcio invece hai pagato 100.000 stai molto attento capito ti dai la lisciatina ogni giorno fai la preghiera davanti il prezzo determina mille cose molto più di quello che uno si immagini e soprattutto ti aiuta non a trovare dei clienti in generale ma a trovare i clienti giusti in base al prezzo che fai hai clienti giusti per quel tipo di prezzo l'altro aspetto è evidente che il prezzo è sempre contestuale un gelato che pagheresti un euro nel momento in cui ci sono 40 gradi sei spiaggia sperduto c'è una fai pazzesca hai la gula arsa si dice così e uno arriva e dice 5 euro è 5 euro insomma oppure sei in vacanza oppure hai avuto una delusione e dici basta adesso mi devo divertire spendo comunque cifra cioè il prezzo è sempre contestuale scegliere il prezzo giusto non è facile è un casino e però se a ognuno ci si deve cimentare però queste riflessioni secondo me vanno tenute a mente poi se ne avete dei migliori nei commenti lasciatele la frasetta forse che riassume meglio tutta sta vicenda è la solita frase Warren Buffettiana ed intorni che ti dice che spesso quando la gente non compra il problema non è il prezzo il problema è che non ci vede abbastanza valore non sono un professore di marketing non sono un esperto di marketing non sono ovviamente un mago come capisci dalle mie mosse magheggianti però è come Brighton io ci vivo a Brighton vivo nel mondo della comunicazione dei social da dieci anni insomma e del marketing in generale da tanti anni eppur non essendo minimamente un tizio preparato studiato giurisprudenza sulla mia pelle da autodidatta mi sono fatto mille trucci mastruci lasciate valutare in questi anni come me la sia cavata dal punto di vista del brand personale della comunicazione del marketing di pirupiraggi e di queste menate varie sui social come sono andato dammi tu il voto meno 25 re meno di incoraggiamento come diceva mia prof di greco ma soprattutto oggi carta, penna, calamaio e magiche carte volevo provare a fare un instant course di marketing per persone che magari devono fare un'attività sui social o di comunicazione non sanno da dove partire non hanno tempo di leggere grandi libri non hanno voglia di leggersi se godi non possono fare l'nba il master di marketing o quello che è sono anche un po' con le palle girate rispetto a tutte le definizioni cosa il marketing le 4p le 3c però il marketing il brand la comunicazione ma no ma mi raccomando non puoi dirmi che mandate tutti a quel paese vediamo in pratica vediamo in pratica come si può comunicare vediamo anzitutto quella che è la definizione marketing per me io sono un godiano Seth Godin Docet e per me la definizione migliore è quella lì cos'è il marketing secondo Seth è un atto generoso mi raccomando la parola generoso di aiutare gli altri credo nell'ultimo libro la specifica così this is marketing ci ho fatto un video un po' di tempo fa a risolvere i loro problemi ora vedete non c'è nulla di tecnico in questa definizione è un atto generoso non sei lì per estorcere qualcosa a qualcuno generoso aiutare gli altri a risolvere i loro problemi in sostanza secondo Seth che cosa fa il marketing aiuta gli altri scrivo veramente di merda a diventare guarda non riesco a me che mi scrive quello che vogliono diventare questo è il marketing alla fine dei conti concetto semplice però il marketing aiuta gli altri a diventare quello che vogliono diventare se tu parti da questo aspetto semplice sai che il tuo compito una volta che hai un prodotto un servizio quando lo devi far conoscere al resto del mondo quando vuoi attirare l'attenzione farti notare direi sono qua parti dal presupposto che vuoi risolvere un problema a qualcuno non vuoi risolvere il tuo problema di dire ah c'ho bisogno di soldi c'ho bisogno di clienti no quello è il tuo problema qual è il problema degli altri quale problema aiuti a risolvere allora facciamo un caso pratico non so perché ma vorrei parlare di uno sport che si chiama ping pong e facciamo il caso ad esempio di un allenatore di ping pong partiamo da lì può essere un caso interessante ping pong è l'argomento e facciamo finta che tu sia appunto un allenatore che cosa fai come allenatore come allenatore alleni per cui il tuo prodotto la tua P del prodotto è coach ping però potresti avere delle lezioni fatte dal vivo dove vengo da te e mi alleni potresti avere che ne so un video corso magari dove i segni un po' giocare ping pong la tecnica principale potresti avere magari altro potresti avere una filiazione con Nittaku Butterfly dove vendi le palline le racchette i tavoli suggerisci quelli che sono i prodotti per te migliori puoi avere tante attività come allenatore a questo punto dici vabbè ma io come minghia minghia faccio a raggiungere i miei potenziali clienti una volta che parti da questo presupposto dici beh io devo risolvere i loro problemi allora quali sono i loro problemi quali sono i problemi dell'aspirante pongista pongista giocatore ping pong che vuole diventare il nuovo Valner o la zia di Malong che sono grandi campioni Valner è stato per me il miglior è numero uno per tanti anni beh allora se noi prendiamo il nostro aspirante pongista col capello lungo qua la Dustin Brown che è questo tennista che veramente mi fa morire peccato che non giochi più ok questo è il nostro pongista questo signore per diventare Valner qua ha un percorso da affrontare quindi ha tutta una serie di problemi da affrontare per diventare un grande giocatore questo qua è il top la sua versione migliore questo è libera il Valner Iannove Valner che è in te ok per arrivare da 0 a 100 ovviamente stiamo semplificando brutalmente qualunque tipo di concetto rendila per quello che è in 15 minuti cerco di spiegarti in modo super semplice che anche un bambino possa capire qualcosa che magari ha tutta una serie di approfondimenti insomma che poi ti fai da te però la cosa interessante è questa questo signore per andare da 0 a 100 ha vari ostacoli da risolvere ostacoli proprio sia di conoscenza che di esecuzione giusto dovrà sapere immagina che parti proprio da 0 lo chiamiamo tra parentesi come lo chiamiamo questo signore chiamiamo Tobia non so è Tobia o fa la spia vabbè Tobia allora Tobia vuole andare da 0 a 100 allora Tobia vuole andare da 0 a 100 con il suo ping pong che cosa deve fare deve imparare un sacco di cose deve imparare le regole deve sapere magari quale racchetta gomme utilizzare deve imparare i colpi allora deve dire il dritto come si fa oh ma il servizio come si fa e il rovescio come si fa questo qua il footwork le gambe come mi muovo in un tavolo da ping pong e via così qua ce ne hai 3000 tutta la vita immaginate quanto tempo ci vuole per diventare poi bravo però possiamo dire adesso io questi li ho messi a caso ma hanno un ordine logico non puoi iniziare a giocare se non sai le regole non puoi iniziare a giocare se non sai che racchetta devi utilizzare l'impugnatura i singoli colpi la posizione delle gambe ha un ordine logico ogni attività e i problemi puoi metterli in un ordine cronologico più preciso non è che devi proprio andare a caso se torniamo allora al nostro allenatore che chiameremo come lo chiamiamo da dong lo chiamiamo l'allenatore l'allenatore da dong vuole comunicare vuole risolvere i problemi di tobia tobia deve affrontare tutti questi problemi allora tu sai già quali sono i suoi problemi come ha fatto da dong a saperli che se fa l'allenatore sa quali sono gli aspetti principali da risolvere per diventare un giocatore allora la sua strategia di comunicazione di marketing in questo caso sui social ci fermiamo a quello ma poi la potresti declinare su parte di guerriglia marketing potresti fare delle iniziative per strada nella vita reale puoi fare degli eventi puoi fare mille cose noi in questo momento ci concentriamo da dong social superstar perché vuole diventare una superstar vuole diventare l'allenatore numero uno quando si parla il ping pong tu becchi da dong che cosa deve fare da dong da dong deve fare una cosa molto semplice deve buttare fuori dei contenuti che vadano a interessare il nostro tobia e va a fare tutti i suoi contenuti qual è la cosa interessante che tobia è qua che spipola magari sta spipolando su youtube e trova questo video sulle regole e ping pong inizia a vederlo magari il video è fatto anche molto bene perché da dong è un gallo pazzesco a fare video a spiegare bene le regole e tobia dice wow cosa succederà dopo che dice wow probabilmente si iscrive al canale o va a vedersi l'altro video e dice ah caspia adesso che ho capito quali sono le regole di questa vicenda vado a vedermi il video sulla racchetta scelgo un tank a gergeli o uno zoran primor a scarbon adesso non so più quali siano i brand che ci sono c'erano in tempi miei quali come ci metto su la tenergy da 2.5 mm e via così è un cinema e il vantaggio di tobia è che torna su youtube e trova il nostro affezionato da dong pronto con l'altro suo video sulle racchette se questa tipologia di contenuti funziona tobia inizia a seguire questi contenuti e di volta in volta wow a volte c'è un più a volte c'è un meno i contenuti non saranno tutti wowosi allo stesso modo però si sta in un rapporto che ha alcuni vantaggi interessanti vantaggio numero uno è un vantaggio di chiamiamolo intimità perché se tu stai con me e spendi del tempo per guardare i miei contenuti dopo un po' in un qualche modo ci conosciamo tu mi conosci c'è una credibilità che si va a creare data dalla competenza dal fatto che ti dico delle cose interessanti e questo è il vantaggio numero due famoso risultato in anticipo che è un grande classico di qualunque teoria di comunicazione si socia in sostanza io ti ho già dato un risultato non ti ho venduto assolutamente niente però ti ho già dato il risultato hai provato magari la racchetta questa qua e hai pensato figata pazzesca effettivamente io gioco meglio con una racchetta con il puntino lungo perché magari è più adatto al mio gioco rispetto che con una racchetta che va a 300 all'ora una gomma lescia oppure se ti ho dato tre tips interessanti su come si fa il tuo spin di dritto li hai provati e hai avuto un risultato questo vantaggio non è da poco perché io mi fido di te a questo punto ne hai dato e mi stai dando dei consigli che mi aiutano una volta che si instaura questo rapporto che richiede tempo perché risolvere i problemi di persone richiede tempo il nostro eroe da dong a un certo punto pensa sì però io devo anche mangiare porca paletta non è che posso stare qua solo a fare contenuti deve anche mangiare e qua c'è il famoso bivio più a lungo tu puoi stare mettendo fuori dei contenuti in modo generoso dove non vuoi vendere assolutamente niente non vuoi vendere niente in modo generoso vuoi aiutare le persone che fanno parte del pubblico a cui ti vuoi rivolgere a risolvere i loro problemi li vuoi aiutare ripeti con me a diventare meglio che loro possano diventare in quel settore una volta che tu metti fuori questi contenuti scegli tu per quanto a lungo andare senza aver nessun tipo di richiesta indietro un paradosso dicotomico che molte persone non comprendono molte aziende non comprendono è che meno tu richiedi e più sei richiesto dal mercato è un po' come quando si corteggia lo sai in amor vince che fugge e tutte quelle menate lì però è così detto questo però da dong dice beh però in questo momento di macro crisi economica sarà meglio far quadrare due lirette e quindi esce con una proposta qual è la proposta che va a fare in questo percorso in questo percorso uscirà con un contenuto con il quale dice ehi Tobia hai visto tutti i video che ho fatto fino ad oggi ti sono piaciuti sì grande grazie ti sono stati utili ma porca miseria sai che mi sono stati utili un bel po' un bel po' fantastico allora guarda ho una proposta per te molto semplice se vuoi proseguire in questo rapporto qua e vuoi provare a migliorare magari di più o più velocemente io ho questo tipo di proposta magari ti può interessare fare un workshop con me dove ti alleno o magari divento tutto allenatore o magari guarda c'è un videocorso proprio specifico se ti interessava il tema di come ci si muove qual è il footwork giusto per giocare a ping pong ho questo videocorso oppure magari ti interessa prendere questo tavolo per interni che secondo me è il miglior tavolo a ping pong o ti serve questa trasera e via così ed è il momento della proposta la proposta ognuno la fa a suo modo c'è chi è più aggressivo c'è chi è meno aggressivo c'è quello più all'americana c'è il baffo e compra e compra e quelli più eleganti ognuno la decide lì è tutta una parte più di vendita dove ci sono anche lì varie tecniche uno decide che tipo di approccio avere però il concetto di base è che dopo questo percorso esci con una proposta a questo punto quante opzioni ci sono? ci sono solo due opzioni opzione 1 dice sì opzione 2 dice no se dice sì bene fantastico proseguiamo questo rapporto opzione 2 dice no non mi interessa non c'è problema amici come prima si torna di qua e qui ci sarà un altro percorso pensate a quanti contenuti ci sono su ogni argomento e magari il nostro Tobia non compra oggi ma compra tra un mese tre mesi quando hai soldi per comprare o quando gli interessa veramente il videocorso specifico sul servizio risposta al servizio o quello che è fine della storia atto generoso di aiutare gli altri a risolvere i loro problemi aiuta quando fai marketing gli altri a diventare quello che vogliono diventare il marketing lo complichiamo così tanto ma per me nella mia esperienza da autodidatta da ignorante da cinquantenne pelato da boomer dei social a me ha sempre funzionato molto bene così spero che ti funzioni la prossima volta buttarla lì male che vada insomma hai perso cinque minuti per provare anche questo metodo poi se ti vuoi fare invece i mega master assolutamente approfondisci però insomma proviamo a tenere più semplice l'approccio e magari più facile metterlo in pratica bocca al lupo quando ti metti in proprio o quando fai una tua startup quali sono le regole d'oro le regole auree per sapere che sta andando nella direzione giusta io non le so ma Y Combinator che è l'acceleratore di startup più famosa al mondo da cui sono venuti fuori Airbnb Reddit e la mamma di Goldrake ha stilato il loro pocket guide per le startup vale sia che tu voglia fare una startup tecnologica tipicamente Y Combinator roba di sviluppatori piattaforme ma vale anche se fai libero professionista se sei una partita IVA se ti sei messo in proprio se ti vuoi mettere in proprio sono buone idee buoni principi da tenere in testa partiamo col primo launch now così si dice in inglese cioè lancia ora parti ora con il prodotto e il progetto facciamo un esempio se io Musk parte con il rebrand di Twitter e lo chiama X e lo fa da un secondo all'altro con un logo peraltro che costa 5 dollari perché tu che sei una startupina ridicola che non ha nessun tipo di visibilità non hai nulla da perdere o io che lancio il mio nuovo progetto il business il business.com registrati registrati 5-6 ottobre primo appuntamento allestiamo un set per due giorni portiamo ospiti superfili interessanti per produrre contenuti che siano utili 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 più possibile sarei d'accordo allora che ci facciamo un sacco di tip mentali prima di partire con il nostro progetto ecco mi piacerebbe fare questo quest'altro e alla fine uno parte mai fino anche non è perfettissimo la perfezione sta in alcuni settori se sei nel settore farma cioè non è che puoi dire è solo lancio un progetto così al volo parto però nella stragrande maggioranza dei settori dove oggi svilano startup uno può iniziare a partire e poi aggiusta in corsa in sostanza quando sei all'inizio comunque fai schifo uguale questa è un po' la mia filosofia per cui non ha senso preoccuparsi più di tanto il vantaggio invece che tu hai l'interesse composto che raccogli dal partire subito iniziare a raccogliere reazioni dagli utenti e poi iniziare a giustare capire è in generale non è sempre però no sono mica regole matematiche però è in generale meglio che star lì aspettare tre anni prima di partire anche perché intanto il mercato è andato avanti numero due build something people want costruisci qualcosa crea qualcosa che le persone vogliono questa per me è la regola magica che spesso mi sono dimenticato ho la mia idea allora ti impongo la mia idea molto difficile imporre la tua idea magari non c'è il mercato magari le persone non la vogliono quella roba lì certo se sei Apple puoi impostare un intero mercato creare un intero mercato da zero ma se sei a Montemagno piru piru cosa imposti è molto più facile allora fare un reverse engineering partire dalla fine e provare a capire ma che cosa vogliono le persone in questo momento peraltro o cosa vorranno le persone tra x tempo perché intanto mi porto avanti un esempio pratico su questo io mi ricordo quando lanciamo 4books ormai anni fa la reazione era stata immediatamente positiva cioè si è visto subito che le persone volevano quel tipo di prodotto avevano bisogno di un'app che gli desse una mano a gestire il loro tempo in sostanza o una massaggiatura intellettuale che gli aiutasse a migliorare e capire i principi fondamentali dei libri del business non avendo tempo perché spesso uno non ha tempo di leggere 300-600-1000 delle pagine alla settimana dei libri ma nel momento in cui è un'app 4books ce l'ho 4books se è un'app tipo 4books è chiaro che quella roba lì ti fa capire i principi fondamentali poi se ti piacciono ti compri il libro ti leggi il libro con calma però c'era una necessità immediata le persone volevano quel tipo di prodotto e great numero 3 do things that don't scale fai all'inizio delle cose che non scalano in gergo startapparo scalare significa che fai una roba che potenzialmente la puoi replicare su grande scala in tanti paesi in milioni di copie milioni di clienti centinaia di triliardi così questo è scalare ingrandirsi all'inizio però non è così ti faccio un esempio io sto facendo questo progetto il business che all'inizio non scala per niente perché noi il 5-6 ottobre prendiamo una location per due giorni l'allestiamo con tutta la produzione un po' televisivo cinematografica quindi è faticosa lenta costosa non so quanto costa portiamo lì degli ospiti che quindi sono necessariamente un numero limitato e con ogni ospite cerchiamo di registrare un format personalizzato specifico per valorizzare quell'ospite e quel contenuto capisci che non è che ne puoi fare 5 milioni così ne puoi fare 30 25 42 questo è il numero però all'inizio secondo me è importante fare una cosa che non scala questo del business è il classico caso eclatante però se tu riesci a capire il modo giusto di fare quel tipo di prodotto di format e di contenuto in quel caso un contenuto a tema business che sia anche interessante e intrattenente a quel punto diventi così esperto e padrone della materia di quella roba lì che stai facendo che ne conosci tutti i possibili casini dettagli problemi opportunità e poi lo scali dopo una volta che hai capito che funziona e che è una roba che poi piace alle persone torniamo al punto di prima collegato altro principio di Y Combinator adesso te ne prendo qualcuno ce ne saranno 25-30 se non te ne prendo qualcuno se non stiamo qua tutta la notte a fare video è quello di trovare una decina o max un centinaio di clienti che veramente amano il tuo prodotto perché uno ha bisogno di 10-100 clienti che amano davvero il tuo prodotto beh primo perché capisci che almeno c'è un gruppettino per quanto piccoli persone che davvero lo adora non è che gli piace cioè non può fare a meno di quella roba lì e quindi questo è già un segnale positivo perché se ce ne sono 100 probabilmente in tutto il mondo ce ne saranno 1000-10.000 e quindi puoi avere già una conferma c'è cosiddetto product market fit dall'altro lato questi signori ti fanno da cassa risonanza perché se sono veramente innamorati del tuo prodotto wow ne parla nel giro hai visto e sei figata così e il terzo motivo per la mia esperienza è che sono anche quelli che ti danno tutta una serie di indicazioni di riscontri ti dicono oh ma perché non aggiungi questo perché non fai quest'altro ah cacchio ma mi risolveresti la vita se aggiungessi anche questa funzionalità o questa caratteristica in pratica è quello zoccolo duro iniziale che ci aiuta a costruire il nostro prodotto o servizio poi ne ho una vera come il granito tutte le start up prima o poi sono veramente a pezzi in una situazione catastrofica ed è proprio così non sentirti sola o solo se le cose non vanno benissimo è proprio così capita a tutti cos'altro peraltro questi principi sono tutti di ispirazione Paul Grahamiana che è stato fondatore di Y Combinator e ha scritto tutta una serie di essay molto belli che fanno dei ragionamenti sul fare aziende mettiamola così chiaramente per loro sono sempre aziende che devono diventare gigantesche in tutto il mondo però ci sono anche un sacco di concetti proprio filosofici universali direi sul mettersi in proprio o sul gestire un proprio progetto vabbè un altro è quello di non scalare il team o il prodotto sto traducendo temporale non so se hai notato stai chiamando capacità product vorrà dire prodotto non scavarlo fino a quando non hai costruito qualcosa che le persone veramente vogliono punto di prima e questo è un altro errore fatto anche questo ce l'ho la cicatrice tu parti pensi che stai crescendo hai bisogno di crescere velocemente prendere il mercato o inizi a coinvolgere persone coso prendi togliamoci dall'idea del assumere e basta ma è anche contrattualizzare ti impegni in contratti magari di lunga durata che ne so un ufficio adesso voglio dire per esempio stupido però non sai neanche se c'è un prodotto se c'è un mercato se c'è dei clienti e già inizi che hai già cominciato a prendere a spendere a impegnarti a blindarti e non hai più poi la possibilità di tornare indietro nel momento in cui capisci che quella roba non funziona scalare persone eccetera quando hai capito che c'hai una roba che le persone dicono oh mamma mia figata cosmica la valutazione altro punto da considerare soprattutto per le start up tech non equivale a avere successo e neppure equivale a una probabilità di successo altro errore degli start up perché celebrano sui round investimenti abbiamo preso round vabbè adesso che ci fai con quei soldi adesso hai mille impegni poi con gli investitori perché quando hai gli investitori dentro poi hai queste aspettative li devi gestire c'è un sacco di clausole che ti limitano ti vincolano inizi a avere il consiglio di amministrazione il collegio sindacale le menate le assemblee dei soci gli aumenti di capitale legali commercialisti è un cinema quindi non è che ci sia tanto da festeggiare lì festeggerai quando hai finito cioè quando hai o venduto l'azienda perché tipicamente la start up ha un ciclo dove arrivi a venderla poi no questo è il ciclo classico di una start up oppure sei arrivato a un punto di felicità totale che tutto va bene c'è il client è un business fenomenale bravo te ma la valutazione per sé chi se ne fu un'altra carina le start up possono risolvere bene un problema soltanto alla volta questo vale in tutti i settori ad esempio il modello di business quante volte ti capita incontrare una start up appena nata che dice guarda io ho un modello di business che funziona così da un lato c'ho gli abbonamenti poi c'ho la pubblicità poi vendiamo il merch dell'azienda poi vediamo e al 27esimo modello di business tu li fermi e dici zì è già difficile farne uno bene immaginati se ne devi fare contemporaneamente 37 però il bias cognitivo che regna dentro di noi invece spinge ad aggiungere non a sottrarre aggiunge aggiungere così almeno più possibilità più chance più fonti di entrate che è ovvio che Amazon c'ha più fonti di entrate perché c'ha la pubblicità il causal cloud e mille mille altre però Berlin è Amazon c'ha uno sfracasso di persone e un sacco di soldi e allora puoi fare mille cose ma quando sei in due o da solo non è facile una cosa sola fatta bene aiuta ancora un paio vabbè in fondo mi piace che hanno tenuto in fondo get sleep and exercise take care of yourself dormi e fai esercizio prenditi cura di te stesso che è un po' paradossale perché quando tu sei nel pieno di una start up sei totalmente immerso sei l'IH24 non stacchi mai un secondo sempre tutto stressato eccetera però è un giusto memo a ricordare se tu non dormi e non ti tieni in forma non è che puoi andare avanti a lungo e uno se lo dimentica questo anche perché poi lo paghi dopo io ho fatto 51 anni oggi mio compleanno e dopo lo paghi perché comunque se ti sei massacrato per anni è un po' come un'atleta professionista non è che è gratis quello sforzo che hai fatto non è che Rafa Nadal si è massacrato a tennis grande Rafa strepitoso giocatore tutti i danni che si è fatto al fisico poi quando c'ha la mia età o quando c'ha 60 anni il fisico dice adesso sono a posto felice come una rosa tutti quegli acciacchi lì massacri sperazioni che ho dovuto fare infiltrazioni purtroppo poi portano il conto e un imprenditore in fondo è una sorta di atleta olimpico perché sei lì che competi in un mercato difficilissimo non sai bene come fare e quando sei sommerso inizi a dormere poco ti prendi cura sempre meno di te stesso perché ti devi prendere cura della tua startup azienda partitina IVA produttino servizio a cui hai dedicato tante attenzioni ed è un bilanciamento estremamente complesso cartellino rosso da ricordare da farci enorme attenzione e poi chiudo con un altro paio ignora i tuoi concorrenti è più probabile che tu muoia di suicidio che di omicidio mi piace molto questa ed è vera nella stragrande maggioranza dei casi in tutte le iniziative che ho fatto dove ho fallito miseramente non è che è arrivato il concorrente che mi ha spazzato via sono io che l'ho fatta male ho sbagliato ho sbagliato i tempi ho scelto i soci sbagliati ho scelto il settore sbagliato mi sono annoiato ho iniziato a fare altro cioè sono stato io che mi sono suicidato imprenditorialmente e questa è la verità porca paletta porca e poi la chiudo così con questa frasetta che mi piace sometimes you need to fire your customers they might be killing you a volte devi licenziare i tuoi clienti perché probabilmente ti stanno uccidendo è il caso del corrisponsor con cui stiamo parlando per il progetto il business che abbiamo cortesemente mandato a quel paese non perché non volessero investire mettere dei soldi anche tanti soldi per sponsorizzare bla 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 ma perché le richieste che avevano a fronte di quell'investimento erano richieste assolutamente improponibili se uno inizia a lindarti super esclusiva schiavo tutta la vita di un'azienda non puoi più dire yogurt in vita tua che se no ti fanno caso cioè è una roba allucinante allora in quei casi devi avere la lucidità o la fortuna di potertelo permettere e di dire ragazzi sai cosa? facciamo perdere con voi non ci lavoriamo perché se tu inizi a lavorarci poi passi la giornata dietro alle follie di sta gente qua anche quello non è facile all'inizio quando parti con i progetti e magari non hai tanta cassa allora devi accettare dei clienti che fanno veramente schifo eh la vita è un inferno appena puoi però da ricordarci licenziali queste le regole di Y Combinator fammi sapere le tue un abbraccio spero ti siano utili ci vediamo alla prossima oversubscribed come si fa ad avere la fila di clienti fuori dalla porta il libricino è davvero molto carino molto utile per chiunque faccia business in particolare freelance e liberi professionisti tre regolette che possiamo portarci a casa faccili utilizzabili la prima è che io non competo sul mercato io creo il mio mercato e il più interessante è quello degli attori negli Stati Uniti ci sono 450.000 attori di cui peraltro solo l'1% porta a casa più di 150.000 dollari all'anno ma perché allora i produttori dovrebbero pagare milioni e milioni e milioni ai vari Brad Pitt DiCaprio Kevin Spacey Angelina Jolie e affini perché questi attori che sono le top stars non competono sul mercato non competono sui prezzi di mercato hanno creato il proprio mercato hanno creato il proprio brand hanno creato il proprio seguito hanno creato la propria community e a questo punto il prezzo lo fanno loro se vuoi Johnny Depp in un film non gli puoi offrire la paghetta che offriresti a uno della media devi offrire la paghetta in base a quello che è il suo standard il suo mercato numero due cercare di avere meno clienti e non più clienti meno clienti non più clienti impostare il proprio business in maniera tale che ci sia sempre una categoria di persone di clienti che restano fuori che non riescono in quel momento ad avere il tuo prodotto o servizio prendete il classico esempio dei freelance può essere un personal trainer può essere un avvocato libro professionista un commercialista l'obiettivo qual è? è sempre quello di avere più clienti riuscire a squisare la propria azienda squisare infilare nella propria azienda qualunque momento possibile più per avere più clienti è vero o no? a Londra invece tra i tanti personal trainer ce n'è uno che si è specializzato nel fare solamente otto clienti otto clienti molto precisi persone che sono iper impegnate che viaggiano un sacco e che economicamente stanno chiaramente molto bene questi otto clienti li segue in modo super e alla grande ha una filosofia legata a quello che è il reshape della forma fisica molto precisa e se tu sei uno che viaggia un sacco e si vuole rimettere in forma a questo punto cosa fai? vai da un personal trainer normale generalista ti iscrivi alla Virgin Active dove non andrai mai e peraltro diceva che cazzo do a chi è la Virgin Active e tutti gli altri o prendi un personal trainer super qualificato che ti segue portandoti in palma di mano su tutto quanto quello che devi fare nel suo caso il vantaggio qual è? che ne segui otto la volta e se tu vuoi essere seguito da lui devi aspettare quindi crea questa sensazione di scarsità e di competizione per poter avere il migliore e nel suo caso il business funziona meglio perché non si fa pagare 200, 400, 600 pound all'ora ma si fa pagare 40k all'anno su contratti che quindi durano 12 mesi in questo caso 320.000 pound all'anno che non è granché però non fa neanche schifo avere meno clienti che chiaramente funziona bene soprattutto se sei un freelance perché se sei un'azienda consumer chiaramente devi scalare avere grandi numeri no non puoi fare lo stagionamento però è un consiglio corretto perché gli puoi servire meglio consiglio semplice ma vuoi ragionare il terzo suggerimento è quello di non essere disponibile di creare una barriera di fatto di disponibilità faccio un esempio stupido che mi è venuto subito in mente avete presente Spontini a Milano la pizzeria quando vive in Italia c'è stata una marea di volte da Spontini a Milano è un posto dove tu vai tendenzialmente fai sempre la fila per entrare quando entri il posto è brutto i tavoli sono brutti i camerieri che vengono al tavolo sono tutt'altro che gentili e disponibili però la pizza di Spontini è una roba pazzesca la loro chiave di volte è il motivo per cui Spontini ha fatto milionate in questi decenni è proprio che hanno una pizza clamorosa e che non sono per tutti se tu arrivi lì e dici voglio spaghite le vongole prendimi fuori dai coglioni mentre la sta grande la maggioranza delle pizzerie cerca di avere sempre di tutto di più essere totalmente disponibili loro vanno all'estremo posto un prodotto poco disponibili fai la fila taci e magna tre consigli molto utili di mentalità di impostazione del business che ripeto molto utili soprattutto se sei un libero professionista o un freelance per riuscire a creare un prodotto o un servizio che le persone vogliono perché al contrario di quello che moltissimi pensano le persone i consumatori noi non compriamo quello di cui abbiamo davvero bisogno compriamo quello che davvero vogliamo prova fammi sapere grazie a tutti grazie a tutti